Buongiorno a tutte, buongiorno alle professoresse, ai professori, alle studentesse, agli studenti. Ringraziamo tutte le scuole in modo collettivo, perdonateci. E quindi possiamo cominciare con questa tavola rotonda. Volevo solo dire due parole sul P.E. Lab, che è l'ente che organizza questa tavola rotonda, questo incontro. Si tratta di un team di studiose e studiosi dell'Università di Torino, un laboratorio di public engagement, un laboratorio permanente, che si impegna nella divulgazione scientifica, ma anche nella disseminazione della ricerca che si svolge all'Università di Torino. Io mi chiamo Carmen Concilio, sono docente di letteratura inglese e oggi coordinerò questo incontro. La tavola rotonda si propone di presentare alcune figure di donne importanti per la scienza. Sono scienziate, sono studiose, sono intellettuali, sono donne di coscienza, cioè donne impegnate nel mondo pubblico. E questo ci consente di aprire, mantenere aperto il canale di comunicazione con le scuole superiori, che è molto importante anche per dare un assaggio di quello che può essere l'orientamento degli studenti in uscita dalla scuola superiore. Allora, la tavola rotonda, donne di coscienza, comincia con la presentazione della professoressa Elena Ugazio, del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, che ci parlerà di Rosalind Franklin. Bene, grazie Carmen, buongiorno a tutte e tutti davvero e con enorme piacere che, diciamo, apro questa chiacchierata con voi e condivido intanto il mio schermo. Ecco, penso, spero che lo vediate. Allora, dicevo, apro con questa figura che ho scelto e vi spiegherò il perché. Io dico proprio solo due parole di presentazione. Il mio è un dipartimento che, diciamo, sta nell'ambito scientifico, sono sempre stata attratta dall'ambito scientifico e mi fa molto piacere che in questa occasione, in questa giornata, diciamo, siamo tutte donne a parlare. È stato forse un po' un caso, ma non del tutto. Tutte proveniamo da ambiti un po' diversi. Perché Rosalind Franklin? Io, dico la verità, non la conoscevo molto, mi ha molto entusiasmato approfondire un pochino la sua storia. Probabilmente molti, alcuni di voi conoscono, la conoscono perché è legata a una pagina forse non così brillante che riguarda le donne nella scienza. Allora, come si può evincere dalla scritta qui nella slide, è purtroppo deceduta molto prematuramente e nonostante questo, nella sua breve vita sicuramente ha lasciato un segno importante. nata nel 1920, quindi è anche bello, per così dire, ricordarne un po' il centenario della nascita, insomma, passato da poco. Veniva da una famiglia di banchieri ebrei, una famiglia piuttosto importante, però il padre era contrario al fatto che lei intraprendesse studi nelle scienze naturali. E lei, comunque, si laureò in chimica e fisica all'Università di Cambridge, dove poi svolse il suo dottorato di ricerca. Successivamente si trasferì a Parigi e quello fu un periodo molto importante per la sua formazione in quanto approfondì gli studi sul carbone e con delle anche applicazioni e delle ripercussioni importanti perché, ad esempio, i filtri al carbone sono stati preziosissimi, fondamentali, durante poi la Grande Guerra per salvare dai gas tossici molte vite umane e quindi diede un contributo importante nelle sue ricerche. Ma importante, secondo me, fu, almeno da quello che ho colto dalle sue biografie, questo periodo parigino, perché lei si trovò donna, ma in un ambiente abbastanza aperto, stimolante, con cui riuscì a intraprendere, diciamo, delle relazioni con molti colleghi giovani interessati e frizzanti. Poi venne però richiamata, per così dire, o meglio, tenne un posto a Londra dove tornò in modo particolare al prestigioso King's College, dove si sviluppò la parte più importante, diciamo saliente, appunto, della sua vita da scienziata. Prima di passare a quel periodo, volevo però mostrarvi, ecco, questo estratto di una lettera che lei scrisse al padre, nel periodo ancora in cui chiaramente lui manifestava la sua poca propensione a questa scelta di studi della figlia, e lei sottolineava l'importanza della scienza nella vita quotidiana, in quanto questi due, diciamo, grandi concetti dovrebbero essere non separati, ma appunto svolgersi, dipanarsi, svilupparsi giorno per giorno, per, se vogliamo, tutti quanti, ma in modo particolare per chi si dedica a questo tipo di attività. E soprattutto perché la scienza, come lei dice, fornisce almeno parzialmente una spiegazione della vita, che se vogliamo è la grande domanda che tutti, credo, ci facciamo costantemente. Stavo accennando prima al fatto che il suo periodo successivo, più importante, si svolse a Londra, e qui vi ho voluto riportare un'immagine a sinistra molto importante, la cosiddetta foto 51, che nella fattispecie lei, ma forse in modo ancora più, diciamo, specifico dal punto di vista attivo, fu presa da un suo dottorando, Gosling, nel 1952. Perché questa foto è così importante? Beh, intanto perché lei, nel corso, diciamo, dei suoi studi, aveva approfondito molto gli studi di cristallografia a raggi X, le tecniche, e questa foto, che era più importante, ma sicuramente ce n'erano molte altre, richiedevano dei tempi di posa estremamente pazienti, anche di 100 ore continuative, per poter arrivare a dei risultati importanti. Questa è una foto, veramente una pietra migliare nella scienza, perché è quella che ha permesso poi di sviluppare il modello della DNA, quindi della molecola più importante, se vogliamo, la struttura degli acidi nucleici, quindi la molecola più importante per quello che riguarda, se vogliamo, la vita, ed è riuscita a coglierla, diciamo, in questo frammento. Però cos'è successo? Che in realtà lei non aveva ancora pubblicato i risultati di questi studi e questa fotografia l'è stata, per così dire, un po' sottratta da un collega che l'ha mostrato a due ricercatori, in modo particolare uno di questi prima, che poi a sua volta l'ha condiviso col collega, che stavano studiando da tempo questa struttura ed erano molto interessati. C'erano in quel momento, stiamo parlando degli anni 50, dei primi anni 50, più gruppi di ricerca sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti che, diciamo, tentavano di arrivare per primi a questo importantissimo risultato. L'elaborazione di quello che appunto lei era riuscita a trarre dall'immagine è stata poi il punto di partenza per i colleghi Watson e Crick nella elaborazione appunto del modello, che qui a destra vediamo rappresentato in questo disegno già piuttosto dettagliato, che non fecero loro, che erano non tanto abili forse con la matita, ma fu elaborato, fu disegnato dalla moglie di Crick, Odile Speed, che era in realtà, chiedo scusa, è andato avanti, che in realtà era una pittrice, quindi sicuramente molto più abile. Questo a destra è il frontespizio, diciamo, la pagina dell'articolo di Nature, vedete 25 aprile 1953, quindi pochi mesi dopo di quando, diciamo, ci fu, per così dire, questa scoperta, porta la firma appunto di Watson e Crick e Rosalind Franklin viene a malapena citata qui in basso a destra, non con un vero ringraziamento, ma dicendo che le sue conoscenze, le sue elaborazioni sono state appunto lo spunto per poi elaborare questa teoria. Questo è, diciamo, un passaggio, come accennavo, abbastanza così critico, perché c'era sicuramente in quel momento una non facile collaborazione fra i vari gruppi di ricerca, che in modo particolare Rosalind Franklin era così vista un po' come una persona poco socievole, che aveva difficoltà a interagire con i colleghi uomini, in modo particolare Watson, che era statunitense, non aveva, non vedeva di buon occhio, diciamo, la collega, e quindi l'hanno, per così dire, abbastanza tagliata fuori, non riconoscendo il suo contributo fondamentale. Il risultato, l'evoluzione, è stata che i ricercatori Watson e Crick insieme a Wilkins, che era il capo, diciamo, del laboratorio di Cambridge, hanno ricevuto nel 1962 il premio Nobel per la medicina, proprio in virtù di questa importantissima scoperta, che per certi aspetti può essere considerata forse la più importante scoperta del ventesimo secolo in questo settore. Quindi un Nobel mancato, ma non solo, un riconoscimento per l'opera di Rosalind Franklin che si è avuto poi solo col tempo. Lei purtroppo nel frattempo era deceduta a causa di un tumore ovarico, forse in parte causato dalla fortissima esposizione alle radiazioni X. Diciamo che il premio Nobel, questo però in realtà è stato poi messo in atto dal 1974, viene conferito esclusivamente a persone in vita. Quindi lei, come dicevo, era morta nel 1952. In ogni caso, anche all'atto del discorso, diciamo, di ringraziamento per il ricevimento di questo premio, questa piccola equipe, diciamo, questo gruppo di ricercatori non diede il giusto riconoscimento. Quindi ad oggi Rosalind Franklin viene spesso citata come, ripeto, una donna speciale che si dedicò poi a tante altre scoperte, almeno compatibilmente con gli anni che visse ancora, in modo particolare il virus della poliomilite fu uno dei suoi temi, diciamo, di studio. Per concludere, molto brevemente, volevo anche accennare a un altro personaggio femminile, questo perché ho visto che la maggior parte delle donne che verranno citate sono straniere e mi sembrava anche giusto ricordarne una italiana che ha studiato nei laboratori dove io lavoro quotidianamente, quindi i laboratori di chimica farmaceutica dell'Università di Torino, Maria Clotilde Bianchi che era una farmacista, qui la vediamo nel gruppo di ricerca coordinato dal professor Ricciglio Guareschi, illustrissimo chimico con una, diciamo, una capacità, delle capacità e delle straordinarie doti nell'ambito della chimica che adesso non c'è tempo, diciamo, di enunciare. Maria Clotilde Bianchi mentre inizialmente all'inizio del novecento diciamo fu un'allieva interna e poi un'assistente appunto del professor Guareschi si dedicò alle attività in questo ambito e viene qui ricordata dal professor Guareschi, viene ringraziata proprio per il suo contributo, vedete che l'ho voluto proprio sottolineare come lui ringrazia il contributo nello studio dei chetoni ma poi nel 1915 qui c'è un breve report diciamo della corrispondenza di allora dovette dimettersi mandando una comunicazione al rettore e qui a destra c'è la comunicazione del professor Guareschi al rettore stesso perché fu richiamata come tenente farmacista presso gli ospedali della Croce Rossa siamo appunto in tempo di guerra e al pari direi dei colleghi uomini diede un grosso contributo appunto nel contenere i danni truenti appunto di quel periodo lascio la parola volentieri alle colleghe che mi seguiranno desidero solo molto velocemente ringraziare la dottoressa Silvio Idrofano che è stata coerutrice diciamo con me di questa piccola di questo piccolo studio e mi ha soprattutto molto aiutata per il reperimento delle note bibliografiche grazie grazie Elena per questa affascinante storia di piccola grande ingiustizia allora io dico una frase che ogni tanto mi piace ripetere l'Italia quest'anno ha la presidenza del G20 quindi partecipa come una delle maggiori economie del mondo però l'Italia è anche il paese dei femminicidi vive nel medioevo dei femminicidi allora sarebbe ora che l'Italia decidesse che tipo di paese vuole essere se vuole essere l'economia tra le più sviluppate del mondo o vuole essere un paese medievale allora questo incontro di oggi è proprio un segno dell'importanza della traccia che le donne lasciano quando operano al pari degli uomini nell'ambito delle scienze e un altro messaggio che oggi così mi piacerebbe dare è quello che non esistono gerarchie fra le discipline noi facciamo questa distinzione nel linguaggio comune tra scienze esatte e scienze umanistiche scienze dure e scienze di altro tipo in realtà non esiste una gerarchia fra le scienze tutte le scienze di cui parliamo oggi necessitano fanno uso di una metodologia una metodologia scientifica serrata e dunque non c'è differenza fra letteratura linguistica filosofia matematica chimica fisica eccetera allora lascio immediatamente la parola alla professoressa Elisa Corino del dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne che ci parlerà di Mary Haas perfetto grazie grazie Carmen aspettate che vi sposto a questa cosa che se no non dovrebbe darmi fastidio perfetto buongiorno a tutti grazie per essere qui mi fa molto piacere parlarvi oggi di una linguista Mary Haas era una linguista ma prima di parlare del nostro personaggio molti di voi probabilmente si chiedono che cos'è la linguistica cosa fa un linguista guardate questa questa immagine ci sono tante suggerimenti ci sono degli indizi partiamo dal primo per l'anzi partiamo da quello più ovvio che è questo qui che cosa fa un linguista si occupa di descrivere il linguaggio abbiamo la sintassi abbiamo delle parole che probabilmente conoscete sintassi frase periodo sono concetti conosciuti il linguista si occupa di descrivere descrive il linguaggio poi ci sono altre altre immagini c'è questa per esempio che rappresenta grossomodo la comunicazione in più lingue straniere effettivamente il linguista si occupa anche di descrivere non solo la propria lingua ma anche la propria lingua confronto a altre lingue e altre lingue si occupa per esempio di come si acquisisce una lingua di quali sono i processi che regolano l'acquisizione e l'apprendimento il linguista può essere un lessicografo cioè chi scrive dizionari il linguista passiamo alle cose meno ovvie ci sono dei linguisti per esempio che si occupano di consulenza nei tribunali c'è quella che si chiama linguistica forense il CSI della parola del linguaggio il linguista aiuta diciamo nel processo delle indagini nella definizione delle caratteristiche linguistiche per esempio di alcuni degli indagati per esempio nelle intercettazioni il linguista si occupa di rintracciare quali sono le caratteristiche della lingua di una certa persona per definirne per esempio da dove viene questo è un oggetto che molti di voi avranno in casa in questa forma o in altre ebbene dietro anche c'è della linguistica cioè il fatto che un assistente vocale possa ricevere i vostri comandi capirli interpretarli e decifrarli e restituirvi un risultato questo è grazie a un linguista che ci lavora dietro similmente ai famosi chatbot adesso avete in tantissimi siti ci sono questi assistenti virtuali che vi aiutano a trovare insomma a cui potete fare una domanda e loro rispondono non c'è una persona c'è un linguista che ha dato delle regole ha ipotizzato degli schemi delle morfosintattici insomma e fatto delle ipotesi e poi ha trasformato in programmazione insieme agli informatici e poi abbiamo questo questo è il famoso la conoscete tutti chi è che si è inventato il valeriano chi è che si è inventato il dothraki chi si è inventato il plingon oppure il navi è un linguista prima di scrivere il signore degli anelli lui in realtà ha inventato l'elfico e Peterson il diciamo il linguista che c'è dietro il valeriano il dothraki e le lingue del games of thrones è un linguista un linguista che ha fatto fortuna quindi pensateci perché potrebbe essere una possibile strada allora che cosa fa il linguista come fa come funziona il linguista ha dei pezzi ha dei pezzi e li monta oppure ha una costruzione e la smonta i pezzi sono i pezzi della lingua e il linguista spiega come metterli insieme dalle istruzioni oppure osserva una costruzione e la smonta in pezzettini cioè va in questo senso qua descrive quali sono i singoli pezzi del linguaggio ed è questo di questa direzione che noi ci occupiamo parlando di Mary Haas questa operazione si può fare in due modi ci sono due grossomodo due tipi di linguisti il linguista da poltrona e il linguista da campo il linguista da poltrona è colui che nel suo studio o in biblioteca studia le carte studia i dati e insomma ne deriva delle delle regole fa delle deduzioni ne deriva delle leggi anche il linguista da campo è il linguista che va sul campo va sul campo e raccoglie dei dati reali Mary Haas era secondo voi guardate questa è una una foto era una foto è una foto di Mary Haas poltrona o campo guardate come è vestita io direi campo è effettivamente una linguista da campo una linguista sul campo e adesso vedremo perché Mary Haas nasce nel 1910 a Richmond in Indiana negli Stati Uniti e poi morta insomma nel verso la fine del 1900 1996 non così tanto tempo fa per me probabilmente per voi che siete nati dopo sì vive diciamo se voi considerate qual è stato il suo diciamo il mezzo del cammino della sua vita vive sostanzialmente in attività dagli anni 30 si adottora a Yale nel 35 ok quindi 35 40 50 insomma fino agli anni 60 è stata molto attiva ha insegnato a Berkeley quindi pensate al ruolo della donna intorno agli anni 30 40 fino agli anni 50 insomma come poteva essere soprattutto in accademia dove effettivamente come abbiamo già visto prima diciamo l'affare da padrone era di uomini era quindi una linguista da campo che cosa faceva la linguista da campo Mary Haas registrava ed escriveva andava sul campo e raccoglieva dei dati registrandoli con il registratore oppure annotando quello che vedeva e poi gli descriveva questi dati per fare che cosa vediamo questa è una descrizione scritta in uno degli obituaries tra filetti seguiti alla sua morte da uno dei suoi studenti poi diventati suoi colleghi che dice Mary Haas was a renaissance model of scholar renaissance model modello rinascimentale great field phonetician una fonetista da campo fonetista è la persona che studia i suoni della lingua proprio da campo aveva un senso acuto del sistema e delle costruzioni ha scritto due superbe grammatiche grammatiche radicalmente di due lingue radicalmente differenti il tunica e il thai ci soffermiamo sulla prima sul tunica che cos'è il tunica il tunica è una lingua è una lingua dei nativi americani e di questo Mary Haas si occupava sul campo il grande contributo di questa figura di donna è stato quello di salvare tantissime lingue dall'oblio ci sono moltissime lingue nel mondo permettetemi di andare un attimo avanti vi faccio vedere una cosa ci sono moltissime lingue nel mondo che sono prossime all'estinzione questa immagine qui avete poi avete il link se volete poi magari posso passare dei riferimenti ai vostri docenti ai vostri professori e se volete potete esplorare ma basta che voi googliate endangered languages tutti questi pallini che voi vedete qui sono lingue in via di estinzione i rossi sono severamente severely endangered vedete questo qui per esempio sud degli Stati Uniti 200 parlanti quelli gialli sono insomma sulla via dell'estinzione ma non ancora severamente minacciati e così via quelle nere sono quelle morte quindi ci sono delle lingue che un patrimonio linguistico enorme nel mondo guardate l'Africa poi se vi spostaste sulla cartina vedreste per esempio la zona delle Filippine e il sud-est asiatico anche lì ce ne sono tantissime il contributo di Mary House è stato proprio questo cioè di registrare le lingue dei nativi americani che avevano pochissimi parlanti e di consegnarle ai posteri vedete qui in questa immagine ci sono degli appunti di Mary House c'è un grande archivio disponibile e consultabile anche online in cui poi potete vedere gli scritti della studiosa ci sono degli scritti questo qui per esempio è una sorta di glossario qui ci sono degli appunti di grammatica e poi ci sono delle schede che hanno contribuito hanno aiutato i suoi successori a scrivere grammatiche di lingue che appunto stavano scomparendo e qui avete una foto una foto di un nativo americano che comunemente viene identificato come Sam Young in realtà si chiama Sessostri Uchigant credo che si dicano non sono sicura comunque l'ultimo parlante nativo di Tunica Tunica Bulovsky era la la tribù cosa ha fatto Mary House? Mary House ha passato due anni con quest'uomo che le ha raccontato dei miti delle ricette di cucina delle storie che gli venivano raccontate quando era piccolo e lei è riuscita a registrare tutto e a partire da queste registrazioni ha creato la grammatica di Tunica cioè ha ricostruito la costruzione dalla costruzione ha smontato la costruzione e ha identificato i pezzi in modo che oggi noi sappiamo come quali sono le caratteristiche di questa lingua e oggi c'è una grande corrente di rivitalizzazione delle lingue dei nativi americani proprio anche come affermazione della propria identità grazie grazie anche al lavoro di Mary House che non solo ha lavorato sul Tunica ma ha lavorato anche su Natchez sul Creek sul Cosati su tantissime su tantissime lingue dei nativi americani prima della zona sud degli Stati Uniti e poi della California perché lei stava a Berkeley quindi si è occupata anche della fondazione di un laboratorio principalmente dedicato allo studio delle lingue dei nativi americani e al recupero di queste lingue in via di estensione questo è un esempio di Tunica ok vedete come funziona sembra un po' Klingon forse non ci so fermiamo su questo Mary House e gli altri in che ambiente ha lavorato Mary House Mary House era un allieva di un grande linguista uno dei top linguisti uno dei grandi personaggi dell'epoca che era questo signore qua che era Edward Seppier Seppier a un certo punto lavorava a Chicago da un certo punto si è spostato a Yale e ha portato con sé alcuni studenti tutti maschi tranne una Mary House l'ha portata con sé a Yale dove lei appunto ha svolto il dottorato e ha scritto questa grammatica di cui un altro grande contemporaneo di Mary House fu Benjamin Lee Worf che insieme a Seppier è l'autore della ipotesi cosiddetta Seppier Worf che dice che adesso ormai è un po' superata però grosso modo per farvela semplice dice che la lingua plasma la nostra realtà quindi c'è questa grande connessione tra lingua e realtà un'ipotesi che vi fa notare come la linguistica in questo caso si è anche molto connessa all'antropologia e poi Franz Boas Franz Boas è un pochino precedente però insomma il quadro è questo e la cosa interessante rispetto anche a quanto dicevamo prima è al ruolo delle donne in mezzo a un mondo di uomini e che a un certo punto se noi leggiamo gli scritti di Mary House Mary House descrive il direttore del proprio dipartimento a Berkeley come un illuminato erano circa gli anni 40 e dice quest'uomo non fa distinzione tra uomo e donna per lui uno studioso è uno studioso e come ha fatto quando leggevo questi scritti di Mary House mi ha fatto specie pensare che lei dovesse stupirsi del fatto che ci fosse un uomo così illuminato da considerarla uno studioso tra i tanti e non una donna tra gli uomini quindi questo è significativo se poi parliamo ancora l'ultima cosa che vi voglio dire del suo contributo scientifico al di là appunto delle lingue in via di estinzione e quello riguardo al Thai alla lingua thailandese io mi occupo di didattica e Mary House è un grande esempio perché è stata uno dei primi già negli anni 40 a mettere il focus sul fatto che la lingua è comunicazione che bisogna iniziare a parlare prima ancora che a leggere e scrivere perché e anzi ad adottare un approccio nell'insegnamento del Thai comunicativo e per funzioni comunicative cioè vado e compro il giornale vi devo comprare il biglietto del treno che è quello che voi fate oggi nello studio delle vostre lingue i vostri libri sono organizzati così se voi li guardate bene saper fare con la lingua questo perché lei fu chiamata a sviluppare un programma per l'insegnamento del Thai per l'esercito durante la seconda guerra mondiale durante la seconda guerra mondiale l'esercito aveva bisogno di comunicare con le popolazioni con le quali veniva in contatto e quindi molti linguisti furono chiamati a creare dei corsi di lingua e a Mary House fu appunto commissionato in corsi di Thai proprio perché se ne occupava il dizionario di Thai inglese ancora oggi è utilizzato scritto peraltro e l'approccio che lei utilizzava fu proprio questo cioè modernissimo anche in questo laddove la didattica delle lingue a quel punto era ancora di stampo diciamo classicista grammatical traduttivo si faceva la versione si traduceva si spiegava la regola si traduceva semplicemente invece lei era se volete approfondire qui ci sono tutti i materiali di Mary House appunto dal quale io ho tratto quelle immagini con gli appunti e questo è il sito delle Endangered Languages dateli un'occhiata perché è molto bello ci sono anche i video e alcuni testi che potete vedere in cui sentire queste lingue appunto parlate e vederle scritte se avete delle domande io sono a disposizione grazie Elisa Corino per questa presentazione ecco se ci sono domande naturalmente sono benvenute possiamo cominciare a raccoglierle nella chat oppure lasciamo poi un po' di spazio alla fine perché si possa intervenire anche in viva voce e vorrei anche raccomandare alle studentesse agli studenti ai loro docenti alle professoresse ai professori se volete poi contattare qualcuna delle relatrici potete scrivermi una mail e io giro volentieri le vostre richieste alle colleghe che possono fornirvi le slide dei link delle informazioni aggiuntive quindi se vogliamo mantenere aperto un canale di comunicazione potete usare l'email per comunicare con tutti noi grazie adesso lascerei la parola alla professoressa Paola Bonfante del Dipartimento dei Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi che ci parlerà di Lynn Margulis grazie cerco intanto di condividere lo schermo spero che lo possiate vedere non so se c'è lo schermo in questo momento non ancora non ancora allora vediamo di nuovo eventualmente Carmen se ho già rifatto il condividi allora solo 30 secondi riprovo ancora condividi vediamo ancora un momento non capisco perché vediamo se arriva in questo momento sì ecco benissimo allora buongiorno a tutti vi scuso per questo momento di lentezza io sono una biologa ho insegnato per moltissimi anni biologia vegetale all'Università di Torino e oggi vorrei parlarvi di questa figura molto affascinante che è Lynn Margulis tuttavia prima volevo dirvi in realtà come biologa mi sono anche chiesta ma magari a tutti gli studenti e le studentesse che partecipano oggi magari associano all'idea della biologia alla figura di Rita Levi Montalcini che è sicuramente una figura iconica per la ricerca per la scienza italiana Rita Levi Montalcini vince il premio Nobel nel 1986 per la medicina e è veramente dato un contributo straordinario oppure pensando anche a me che ho fatto e faccio tuttora la biologa vegetale perché non ricordare Barbara McClintock una figura forse meno famosa ma che ha dato che lei è un contributo straordinario proprio lavorando sul mais magari vedete che ha quella pannocchia in mano e facendo degli esperimenti molto semplici di genetica avanzò delle ipotesi davvero straordinarie sulla possibilità che ci fossero degli elementi mobili che si muovevano lungo il genoma del mais che furono chiamati trasposoni fu una scoperta un'ipotesi straordinaria e in effetti ebbe il premio Nobel molti anni dopo nel 1983 ma poi alla fine ho detto no voglio parlare di Lynn Margulis perché Lynn Margulis è questa biologa americana biologa evoluzionista è veramente un personaggio straordinario secondo me rappresenta un modello per il pensiero forte originale che ha proposto è un modello anche proprio pensando a come ha vissuto la sua vita di scienziata e di donna ecco vorrei dirvi che se siete interessati troverete sulla diciamo nei cataloghi italiani tantissimi libri di Lynn Margulis che lei ha scritto spesso assieme al figlio Dorian Sagan e troverete quindi una grande quantità di libri ma anche di molta biografia proprio sulla sua storia e mi piace citare adesso questo libro che è uscito da poco scritto da una giornalista scientifica Adriana Giannini e che proprio offre una piacevole ricostruzione della vita e del pensiero scientifico di Lynn Margulis ma vediamo meglio proprio soltanto qualche cenno velocissimo della sua storia perché la sua storia già ci dice molto della sua personalità straordinaria e affascinantissima Lynn nasce a Chicago alla fine degli anni 30 si iscrive a dei corsi della Chicago Laboratory School dove segue dei corsi di letteratura anche letteratura scientifica quindi chi ha questo è molto interessante lei amava moltissimo scrivere e comunicare infatti vediamo che proprio la comunicazione dei suoi risultati è uno dei punti forti della della sua personalità e ha una storia molto interessante perché a 16 anni nelle scale della scuola letteralmente si scontra con un giovanotto di nome Carl Sagan e dopo solo tre anni quando ha 19 anni lo sposa e la giovane coppia va all'università del Wisconsin perché è Carl Sagan che diventerà un importante astrofisico un astronomo molto importante per la comunità scientifica anche internazionale ha lì già una posizione e Lynn fa l'università del Wisconsin ottiene un master in zoologia genetica poi prosegue il suo percorso con un dottorato a Berkeley intanto divorzia da Carl Sagan con cui ha avuto due figli e sposa Thomas Margulis che è un cristallografo da cui ha anche altri due figli e intanto diventa professoressa all'università di Boston dove rimane per ben 22 anni e nella fase più matura della sua vita ottiene moltissimi riconoscimenti ed è un giro in tutto il mondo ma perché Lynn Margulis è considerata una biologa rivoluzionaria allora penso che possiamo proprio in poche parole ricordare che ci sono due parole chiave nel pensiero di Lynn Margulis simbiosi e microrganismi allora simbiosi è una parola bellissima secondo me allora deriva dal greco simbiosis vivere assieme e quindi l'idea alla base proprio del pensiero dell'evoluzione di Lynn Margulis è che la simbiosi il vivere insieme tra organismi sia stata una molla molto importante nella storia dell'evoluzione della vita e dall'altra parte invece ci sono i microrganismi perché lei è una microbiologa studia i microrganismi fondamentalmente con le tecniche dell'epoca quindi raccoglie questi suoi campioni negli ambienti più strani più estremi e poi li va a studiare al microscopio elettronico e quindi la sua rivoluzione scientifica nasce proprio dal mettere insieme queste due parole Lynn Margulis riprende una idea un'ipotesi che era già stata proposta all'inizio del novecento in cui si diceva che probabilmente la cellula eucariotica era il prodotto di eventi di simbiosi allora cosa vuol dire cellula eucariotica cellula eucariotica sicuramente tutti gli studenti che hanno già fatto qualche corso di biologia sanno che il mondo dei viventi si basa su due organizzazioni differenti l'organizzazione dei procarioti è quella classica in cui la molecola del DNA quella che ha illustrato prima la professoressa di farmacia non è compartimentata mentre invece nella cellula eucariotica questa l'informazione genetica presente all'interno delle molecole di DNA è compartimentata da una membrana da un sistema di membrane e anche ci sono un'altra serie di organelli fondamentali tra cui mitocondrio i plastidi nelle cellule vegetali anche questi tutti limitati da un sistema di membrana allora qual è l'ipotesi forte di Lynn Margulis che passa gran parte della sua vita a dimostrare questo che la cellula eucariotica non è niente altro che il risultato di una serie di eventi di simbiosi simbiosi seriali lei li definisce e di procarioti che entrano all'interno di una cellula che era un'antenata della cellula eucariotica e man mano perdono la loro indipendenza e si trasformano in organelli questa ipotesi in realtà ai tempi di Lynn Margulis non aveva delle forti supporti sperimentali si sapeva certo che dentro il mitocondrio dentro il plastidio c'erano molecole di DNA ma le prove erano effettivamente molto scarse per questo la sua ipotesi che sicuramente voi avrete già visto in molti schemi presenti nei vostri testi di biologia vale dire che la cellula eucariotica vegetale contiene sia i mitocondri sia i plastidi la cellula animale fondamenta solo i mitocondri e non fu assolutamente accettata immediatamente era considerata non sufficientemente sorretta da prove sperimentali quindi soltanto successivamente diventò chiaro che grazie ai sequenziamenti dei genomi di tutta una serie di mitocondri e di plastidi e dall'altra parte di grandi sequenziamenti di un grande numero di batteri fu veramente possibile dimostrare che l'ipotesi di Lin Margulis era veramente corretta e anzi adesso noi sappiamo anche molto bene quelli che possono essere considerati gli antenati degli attuali mitocondri o plastidi ma questo richiese tutta una serie di tempi e un grande impegno una grande costanza da parte di Lin Margulis che intanto man mano che riusciva a convincere il pubblico degli altri evoluzionisti che questa poteva essere una strada veramente importante sviluppava l'altro concetto molto portatore di idee vale dire che la simbiosi non soltanto ha un ruolo fondamentale nell'evoluzione ma porta anche a novità biologiche e allora questo vale non soltanto per il livello cellulare la cellula eucariotica come lei descrisse ma vale per tutta un'altra serie di livelli organizzativi fino e vi fermo a dire solo una parola per quell'esempio forse più facile è quello dei licheni tutti voi sapete che cos'è un lichene lo vedete su un tronco di un albero e sapete anche bene che è prodotto della simbiosi tra un fungo e un'alga ma quando voi vedete il lichene voi non pensate all'individualità dei due partner ma vedete invece proprio il prodotto della simbiosi che è una novità biologica e quindi questo fu un concetto molto importante e Lynn combatte moltissimo e diciamo le sue prime grandi difficoltà furono anche proprio dovute al fatto che negli anni sessanta il concetto ovviamente fondamentale di Darwin dell'evoluzione era sorretto e molto diciamo presentato e discusso dalla scuola cosiddetta dei neodarwinisti che vedeva una forma di contrasto in quella che era l'ipotesi di Margulis di una evoluzione basata sulla cooperazione c'era inoltre da dire il fatto che ovviamente Darwin non era assolutamente a conoscenza del mondo dei microrganismi e delle funzioni fondamentali che si svolgono infatti in realtà oggi non lo si vede assolutamente più come un problema in contrasto quindi quello che a me piacerebbe dire pensando a Lynn Margulis e al messaggio che vorrei dare oggi è del dire che è stata importante per la scienza perché ha avuto un pensiero originale e forte i cui risultati sono stati molto ben verificati anche successivamente e anzi oggi noi pensiamo che il suo modello sia molto più complesso ovviamente di quello che Lynn Margulis ci ha presentato ormai 30-40 anni fa e l'altro aspetto interessante anche in termini linguistici se vogliamo dire è la parola simbiosi che è passata quindi da un modello cooperativo quindi come un termine puramente scientifico all'uso della parola nella società è diventata una metafora molto forte e quindi effettivamente è interessante pensare al successo proprio della parola e l'altra parola che era la base proprio della ricerca scientifica del profilo scientifico di Lynn Margulis è il mondo microbico su cui lei ha tanto scritto e voi sapete che in questi anni sono proprio considerati anche gli anni del microbiota quel complesso di comunità microbiche che proprio costituiscono il nostro secondo genoma il secondo genoma delle piante e che quindi hanno tutta una serie di conseguenze sul nostro organismo che non viene più considerato l'organismo umano in sé ma un complesso dell'olobionte e questo sicuramente nasce da Lynn Margulis che è stata così la pioniera così forte a parlare dei microrganismi del mondo dei microrganismi e poi mi piace anche dire che lei è stata veramente una donna a 360 gradi che ha vissuto in modo molto intenso tutta una serie di relazioni di vita di coppia di maternità ha scritto libri col figlio e con un forte coinvolgimento e quindi il mio messaggio è che Lynn Margulis rappresenta veramente un buon esempio di come si può fare grande scienza mettendo insieme tutti gli aspetti della personalità è difficile ma si può e mi piace finire con questa figura e fotografia di Lynn Margulis che mi guarda in modo un po' interrogativo in un meeting in cui Lynn Margulis fu invitata a Torino nel 1988 quindi grazie per l'attenzione anch'io sono assolutamente disponibile a tutta una serie di domande se volete o qui sullo chat o per mail grazie Carmen anche a te per l'organizzazione grazie alla professoressa Paola Bonfante per questa bella presentazione ecco dicevo che questo incontro di oggi può servire anche un po' come un assaggio di orientamento e sono sicura che le studentesse e gli studenti hanno già carpito dei messaggi in questo senso penso alle lingue misteriose a cui accennava la professoressa Corino ma anche alle cellule che abbiamo visto così ben raffigurate in queste slide anche prima con la professoressa Elena Ugazio quindi sono sicura che le studentesse e gli studenti in ascolto hanno già acceso alcune così idee per il loro futuro allora adesso è il turno della professoressa Enrica Favaro del Dipartimento di Scienze Mediche che ci parla di Gerti Teresa Cori grazie grazie professoressa Concilio e grazie a tutti voi che siete collegati oggi come sempre insomma vedersi tra uno schermo e tra l'altro non vedersi nemmeno perché nel senso avete tutte le telecamere spenti è veramente difficile però quello che vorremmo comunicare è questa passione per la scienza tramite le storie di alcune scienziate e non solo che hanno appunto investito vita tempo ed edizione in tal senso cerco di condividere lo schermo condiviso vedete sì però non c'è non c'è ancora l'immagine aspettiamo un secondo è ancora nero ecco ecco arriva ecco nel pensare di che scienziata avrei voluto parlare devo dire sono stata un po' in dubbio e poi avevo sentito parlare tempo fa della storia di questa scienziata Gerti Teresa Cori che è stata la prima donna ad aver avuto il premio Nobel e allora mi sono insomma incuriosita di questa storia e sono andata ad approfondirla e devo dire sono stata alla fine soddisfatta della mia scelta perché leggendo appunto poi io vi riassumerò le cose principali anche perché la professoressa Concilio è stata abbastanza talebana sui tempi che dovevamo rispettare però leggendo un po' di scritti di questa scienziata mi sono proprio appassionata insomma alla sua storia di passione di scienza ma anche di tanta sofferenza come vi racconterò è una biochimica cieca laureata in medicina che nel 1947 appunto è stata la prima donna a vincere il premio Nobel insieme al marito e a un altro fisiologo dopo circa 50 anni quindi dall'istituzione dei premi Nobel è stato direi un gran successo che poi ha dato avvio a una serie di premi Nobel per le donne spesso i laboratori lo vediamo tutti i giorni sono animati da donne perché la maggior parte di coloro che ci abitano che fanno scienza sono comunque donne però poi spesso le posizioni di incarichi ufficiali piuttosto che Nobel la gran parte la fanno gli uomini però devo dire che appunto l'avvio di questa di questa professoressa ha dato poi l'avvio a una serie di premi Nobel alcuni dei quali vi sono stati citati dalla relatrice precedente dalla professoressa Barbara McClinton dalla professoressa Rita Levi Montalcini poi in questa slide vi ho voluto riassumere i premi Nobel principali per le donne che senz'altro conoscete dalla storia di Marie Curie Grazia Delezza Madre Teresa di Calcutta tornando alla nostra Gerti Gerti nasce a Praga nasce a Praga nel 1896 da una famiglia ebrea benestante un particolare che sono riuscita a ricostruire dalla sua storia è stato quello che il padre era un chimico e lavorava in una raffineria di zuccheri ecco non entrerò nel dettaglio degli studi di Gerti che devo dire che appunto sono molto complicati dal punto di vista biochimico ma quello che vi dirò è che lei nella sua storia studierà sostanzialmente gli zuccheri studierà gli zuccheri come vengono immagazzinati come si trasformano come si come alla fine diventano il carburante energetico alla base del metabolismo cellulare noi tutte le azioni che riusciamo a fare riusciamo a correre riusciamo a pensare riusciamo a studiare lo riusciamo a fare grazie agli zuccheri che ci danno energia quindi mi ha fatto ridere pensare che questa donna che sarà cresciuta appunto con il padre che gli faceva i suoi racconti sugli zuccheri poi decise proprio di dedicare la sua vita e la sua dedizione di ricerca proprio agli zuccheri incontrò dopo essersi iscritta a medicina i suoi grandi due amori della sua vita da un lato il marito Carcori e dall'altro la biochimica per chi di voi si appresterà a fare facoltà scientifiche la biochimica è senz'altro una delle materie più ostiche che incontrerete un sacco di formule un sacco di cose da ricordare a memoria senz'altro però è molto appassionante come materia ed è la base su cui poi si costruisce tutto tutte le malattie tutte le patologie hanno poi una base sostante di biochimica di qualche meccanismo biochimico che non funziona qualche enzima che è mancante per cui lo studio della biochimica è senz'altro fondamentale iniziarono quindi da giovani studenti la loro attività di ricerca in laboratorio e questa attività che inizia a Praga poi continua a Vienna li portò poi durante la guerra a doversi trasferire in America dove iniziarono poi a lavorare a New York e dove avviarono sostanzialmente tutti i tipi di ricerca che poi li portarono alla fine al conseguimento del premio Nobel ecco vi riassumo qui i principali studi che come vi dicevo sono molto complicati dal punto di vista biochimico che effettuarono però bene o male Gherty studiò soprattutto zuccheri e soprattutto come quali sono gli enzimi che consentono da un lato di immaginare lo zucchero quindi il glucosio nei suoi noi abbiamo delle riserve sostanzialmente di glucosio come ad esempio il glicogeno e quali sono gli enzimi per quindi passare da glucosio a glucogeno o da glicogeno a glucosio e tutti questi studi contribuirono a una migliore comprensione del diabete e i due scienziati quindi marite morti e corti si dedicarono anche allo studio di alcune malattie ereditarie causate da alcuni difetti enzimatici in particolare a loro si deve proprio il nome di un ciclo di biochimico che quelli che avranno la fortuna di studiare biochimica potranno studiare il ciclo di cori di lunedì mattina non si può sostanzialmente iniziare col ciclo di cori perché è veramente complicato ma come vedete nella figura sottostante il ciclo di cori bene o male ha capito i meccanismi tra cui fegato e muscolo interagiscono tra di loro e trasformano il glicosio il glicogeno in glucosio questa è una via metabolica molto importante sostanzialmente all'interno del metabolismo delle riverse energetiche dello zucchero nel 1947 arrivò il premio Nobel purtroppo dieci giorni prima di avere la notizia del conseguimento del premio Nobel a Gerti fu diagnosticato una gravissima malattia ematologica la mielofibrosi che la portò dieci anni dopo purtroppo a morire avevo letto un racconto studiando questa storia di come appunto i due scienziati si dopo la diagnosi una diagnosi così pesante bene o male si consolarono con il conseguimento di questo premio Nobel in questi giorni che appunto preparavo questa presentazione pensavo appunto all'impatto emotivo anche di così tanta sofferenza ma alla fine di sapere che la vita prego lunga abbia avuto comunque un risvolto positivo un risvolto positivo per altri per noi che possiamo godere di tutte queste scoperte di scienziati che hanno dedicato appunto la loro dedizione e la loro sofferenza però che comunque questo ha portato bellezza chiuderei con questa frase che bene o male ho ritrovato tra gli scritti che non vedete più perché che ho ritrovato tra gli scritti di Gerti che mi piaceva lasciare come messaggio per i giovani studenti l'amore e la dedizione al proprio lavoro sono veramente la base per la felicità per noi che bene o male dedichiamo veramente tanto tanto tempo a questo a questo lavoro i momenti di fatica sono tanti e i momenti poi di soddisfazione a volte non sono così sono rari e avvengono dopo tanto tanto lavoro e tanta tanta pazienza i meccanismi biochimici e le basi per capire i meccanismi biochimici ci vuole veramente tanto tempo quindi penso a Gerti che ha la fatica di capire dei meccanismi biochimici complicati ha la pazienza di fare e rifare n volte gli esperimenti ma alla fine intravedere una luce chiara e definita dopo tanta dedizione e tanta sofferenza quindi un messaggio per voi che alla fine nel senso gli studi sono pesanti lo sapete perché siete tutti insomma studiosi studenti in questo momento forse ancora più pesanti con tutta questa didattica a distanza però senz'altro l'amore e la dedizione al vostro lavoro al vostro studio qualunque cosa affiacciate sarà poi qualcosa che magari non vi porterà al Nobel come ha portato Gerti ma porterà senz'altro qualcosa di bello per tutta la storia dell'umanità grazie ancora a tutti grazie Enrica non ci spaventiamo gli studi sono duri però però insomma come come era scritto nella slide precedente ce la facciamo adesso è il turno di Viviana Patti la professoressa Viviana Patti del Dipartimento di Informatica che ci parla di Karen Perk Jones Viviana non ti sentiamo ok adesso sì buongiorno a tutti mi sentite adesso? sì sì ok grazie sono contenta di intervenire in questo contesto per parlare di una una ricercatrice di informatica che ha però diciamo un percorso che la collega anche ad alcune delle ricercatrici che sono state presentate finora in particolare Elisa Corino ho già parlato di una linguista e il percorso diciamo di Karen Spark Jones è un percorso che io definirei appunto non lineare come spesso accade nei percorsi in questo tipo di disciplina in cui lei poi fu pioniera che è la linguistica computazionale e in particolare Karen Spark Jones nasce infatti con una una formazione umanistica si laurea in storia e filosofia nel Regno Unito si tratta appunto di una ricercatrice inglese e quindi si forma dal punto di vista della ricerca in un all'Università di Cambridge in un centro di ricerca sul linguaggio diretto da una filosofa e linguista Margaret Masterman allieva di Wiggenstein quindi con un'impostazione del suo lavoro molto molto legato alla alla filosofia in language use e è in particolare pioniera degli studi di linguistica computazionale e traduzione automatica uno dei task dei primi task che vengono affrontati in quest'ambito quindi si tratta di una figura che ho trovato particolarmente affascinante proprio perché pioniera in una disciplina relativa all'informatica l'informatica appunto come sapete copre un termine che copre molte prospettive diverse e in particolare in questa prospettiva della linguistica computazionale si apprezza particolarmente il contributo di una figura femminile che seppe diciamo formarsi come figura veramente multidisciplinare elemento fondamentale in molti campi dell'informatica brevemente dalla sua bio ho estratto alcuni elementi che mi sembrano interessanti poi per fare le brevi riflessioni che faremo nei tempi concessi scrisse una tesi di dottorato nel 64 su sinonimi e classificazione semantica in cui fu tra le prime ad avere delle intuizioni molto importanti sull'applicazione di tecniche statistiche all'analisi del linguaggio intuendo soprattutto in tempi ancora insomma in cui ancora non si parlava di Big Data adesso appunto arriverò a dire come tutto questo diventa poi particolarmente interessante letto dalla nostra epoca intuisce quella che è la importanza delle risorse linguistiche come appunto risorse da cui apprendere anche utilizzando tecniche statistiche caratteristiche del linguaggio che sono fondamentali per i passi in avanti che sono stati fatti nell'ambito del trattamento automatico del linguaggio naturale nel 72 in particolare scrive il suo lavoro fondamentale sul concetto di TF-IDF Term Frequency Inverse Document Frequency è una funzione di peso che 20 anni dopo sarà alla base del funzionamento dei primi motori di ricerca precursori di Google quindi un contributo veramente che poi in termini di impatto è stato veramente incredibile diventa full professor come vedete molti anni dopo nel 1999 quindi full professor all'università di Cambridge direttrice di ricerca e seppure un po' tardivamente possiamo dire ricopre incarichi comunque di prestigio molto importanti e anche di indirizzo nell'ambito dell'associazione di linguistica computazionale che in quegli anni prende forma e cresce e dopo la sua morte la comunità di Information Retrieval che è la comunità diciamo di riferimento per chi sviluppa motori di ricerca come Google lei intitola un premio che ogni anno viene assegnato e si possono trovare anche in rete un po' di lecture di esponenti di prestigio della comunità che sono chiamate appunto a raccontare la propria ricerca in relazione a questo premio un'altra nota biografica sposa un informatico un informatico che in effetti lavorava era uno dei pionieri dell'Information Retrieval quindi c'è questo questo connubio questa forte intesa anche intellettuale di questa coppia ma mantiene e questa era una cosa non scontata ai suoi tempi il suo nome da nubole anche in ambito professionale è una delle sue citazioni famose e quella rispetto a questo aspetto la ricordo con voi è comunque una cosa buona da fare sempre mantiene la tua identità se sai cosa significa che cosa le dobbiamo allora sicuramente lei ha portato avanti dei contributi in tantissime aree che sono diventate poi sempre più importanti col passare degli anni cito anche appunto le interfacce di linguaggio naturale la semantica lessicale i sistemi di dialogo lavorò sui traduttori automatici che come dicevo sono stati uno dei primi task di linguistica computazionale su cui si sono concentrati gli studiosi essendo appunto un argomento da sempre considerato molto affascinante e soprattutto però i suoi contributi come avrò modo di ricordare tra poco più importanti e di impatto sono quelli relativi ai motori di ricerca per dire solo due parole su che cosa è anche appunto in un'ottica come dicevamo prima di orientamento di che cos'è la linguistica computazionale quando parliamo di linguistica computazionale o forse avrete sentito parlare anche di trattamento automatico del linguaggio parliamo di un'area dell'intelligenza artificiale che in particolare si occupa del linguaggio umano include sono inclusi nei task che vengono trattati da questa branca dell'informatica cose molto diverse che è possibile fare per un computer solo grazie appunto all'elaborazione di tecniche per la comprensione automatica del linguaggio umano e ho citato già alcuni di questi task che vedete nella slide e ne ricordo altri che magari vi sono più familiari che possono essere quelli di sentiment analysis visto di estrarre informazione sulle opinioni dai dati sicuramente come dicevo appunto siamo nell'era dei big data e anche dei social media e per esempio questa area dell'intelligenza artificiale si occupa anche di estrarre informazioni di questo tipo dai dati che gli utenti continuamente generano sui social media l'information retrieval che era appunto l'ambito applicativo in particolare che aveva presente Karen è uno di questi ambiti che hanno a che fare con la linguistica computazionale e il trattamento automatico del linguaggio e dicevo che c'è un forte link con la linguistica sicuramente chi lavora in quest'ambito sicuramente può deve considerare la possibilità di fare del trattamento automatico del linguaggio a diversi livelli che riguardano l'aspetto morfologico l'aspetto sintattico l'aspetto semantico l'aspetto pragmatico e sicuramente sugli aspetti di significato e di contesto e questi sono gli ambiti in cui soprattutto Karen ha dato il suo contributo e in generale l'intuizione per chi lavora in questo campo che fu anche la prospettiva di Karen Spark Jones era un sistema di elaborazione del linguaggio naturale deve acquisire la conoscenza relativa al linguaggio rappresentare questa conoscenza e poi utilizzare questa conoscenza in modo da affrontare in maniera automatica vari task e nel caso appunto dell'information retrieval ci sono diversi task che si possono pensare appunto tradurre cogliere l'intenzione ironica di un'espressione estrarre informazioni sul sentiment dai social media come dicevamo ma anche appunto ritrovare all'interno del mare magnum di tanti documenti disponibili sul web quelli che sono rilevanti per l'utente questo è il tipo di applicazione con cui ha a che fare la teoria che ha trovato questa applicazione così importante molti anni dopo per cui è molto famosa Karen Spark Jones in generale i sistemi più recenti di linguistica computazionale non contengono molta conoscenza ma sono in grado di apprenderla utilizzando algoritmi di apprendimento automatico supervisionato da esempi proprio di uso del linguaggio quindi è molto importante in quest'ambito basare la propria ricerca su grandi raccolte di esempi di uso del linguaggio in cui poi gli algoritmi sono in grado di riconoscere delle regole dei pattern ricorrenti che possono poi essere utilizzati utilizzando appunto tecniche statistiche come tra le prime intuì Karen Sparkle Jones per riuscire per esempio appunto a capire quali sono i documenti che sono più rilevanti rispetto a quella che può essere stata la richiesta dell'utente avrete sentito molto parlare di apprendimento profondo che è un po' un tipo di modello che si può utilizzare per costruire gli algoritmi che lavorano in quest'ambito ed è sicuramente un ambito in cui i profili multidisciplinari sono fondamentali perché è importante come ricordava anche molto bene Karen Sparkle Jones avere una storia di riferimento dietro quando si fa anche questo tipo di lavoro guidati dai dati come esempi di uso del linguaggio e sicuramente Karen incarna nella sua figura anche biografica questo tipo di profilo e di figura ibrida in particolare mi ha colpito approfondendo per questo seminario la sua biografia che in effetti il riconoscimento dell'importanza del suo contributo sulla storia statistica applicata al linguaggio risultato fondamentale per il successo di Alta Vista uno dei primi motori di ricerca antesignano di Google sia avvenuto praticamente più di vent'anni dopo da quello che era il lavoro in cui Karen Sparkle Jones andava a enunciare la sua teoria e lei stessa in un talk che si può trovare in rete che aveva registrato prima di un prestigioso riconoscimento che non potete poi ricevere di persona per via del fatto che purtroppo morì pochi giorni dopo mi colpisce che lei stessa torni su questo punto cioè anche in un ambito tecnologico dove le cose vanno anche i progressi sono molto veloci è possibile che ci sia un contributo fondamentale di base che trova la sua piena applicazione il suo pieno riconoscimento più di vent'anni dopo e questo è proprio quello che è capito in questo caso e lo sguardo più in rischio che lei ebbe in questo in questo contesto specifico è quello di capire che l'informazione semantica fondamentale per i motori di ricerca per trovare risultati in poco tempo e per capire appunto qual era l'importanza di un termine all'interno di un documento tra i vari che potevano essere selezionati come rilevante per l'utente come questa importazione semantica potesse essere diciamo trovata su basi empiriche quindi non solo basandosi su teorie e regole e quindi se vogliamo di riflesso anche è una delle prime che riconobbe prima che ci fosse la disponibilità così grande che abbiamo adesso l'importanza delle risorse linguistiche e di applicare quindi di poter applicare tecniche statistiche dell'analisi del linguaggio dal punto di vista che appunto come ricordavamo all'inizio abbiamo selezionato queste figure anche in base a quello che era la loro riflessione sull'impatto sociale delle varie discipline in questo caso dell'informatica sicuramente Karen fu una delle donne che si rese prima conto di quanto fosse importante che le donne avessero un ruolo chiave in questo mondo e questo è particolarmente rilevante in informatica dove nell'immaginario collettivo si tratta di una disciplina maschile e in più siamo diciamo c'è un po' l'idea dello stereotipo del nerd giovane maschio solo in una stanza che non aiuta tant'è vero che anche nei nostri costi di studi facciamo fatica ad attrarre donne Karen fu una delle prime che se ne rese conto d'altronde anche lei sicuramente visse e studiò in un ambiente che era prevalente di nominanza maschile come quello dell'informatica su cui poi si spostò decisamente e quindi fu tra le prime a capire quali potevano essere anche i problemi di una rappresentanza così esigua delle donne in questo settore che sempre di più tra l'altro negli anni sta diventando un settore in cui vengono portate avanti applicazioni veramente di ogni tipo che sono molto prevasive e molto presenti nella vita quotidiana di tutti non solo degli uomini ma anche delle donne sicché diventa veramente importantissimo che ci sia anche uno sguardo e un contributo tecnico anche da parte delle donne è veramente un problema che poche ragazze siano affascinate da questo da questo tipo di disciplina anche forse a causa di questo tipo di stereotipi e pregiudizi sulla figura del lavoro dell'informatico che invece nella realtà è molto più variegato ed è molto più molto meno ecco monotematico di quanto può far immaginare a quel tipo di stereotipo qual è il rischio di avere poche donne nella tecnologia anche su questo insomma Karen Sparkle Jones fu pioniera lei dice è importante che si introducano dei che si introduca anche un punto di vista femminile nel pensare alle applicazioni informatiche e sempre di più vediamo infatti in quest'epoca una grande riflessione sulla questione dei bias nei corpora da cui gli algoritmi apprendono le caratteristiche nei modelli che vengono quindi addestratti su questi dati a diversi livelli che riguardano la selezione dei dati che inevitabilmente riflettono alcuni stereotipi e preludizi anche di genere non solo nell'annotazione dei dati ci sono molti livelli in cui ci può essere un bias sicuramente affrontare quindi il design di applicazione informatica avendo dei team multidisciplinari diversi e non fatti solo di uomini è molto importante altro spunto sempre di una sua citazione che mi è piaciuta molto e in cui mi riconosco cioè riconosco quello che mi ha attratto quello che mi ha portato a studiare informatica credo anche che l'informatica sia intellettualmente affascinante soprattutto se si ha intenzione di creare qualcosa che ancora non esiste ecco quello che forse molte ragazze che devono scegliere che cosa studiare sottovalutano è questo aspetto di grande creatività e di grandi possibilità di sfruttare anche la loro formazione umanistica magari di base se si tratta di ragazze che magari vengono da un ucciocentino classico che magari inizialmente hanno scelto un percorso che aveva un altro colore sicuramente Karen Sparta e Johnson non è stata diciamo frenata da questo anzi è stato assolutamente un plus che la sua formazione fosse così ibrida e le consentisse di avere una conoscenza profonda del linguaggio anche da un punto di vista filosofico e linguistico e anche poi la formazione tecnica e informatica per arrivare a dare quello che appunto è stato un contributo di base per lo sviluppo dei motori di ricerca che è un'applicazione non da poco ultimo spunto fu anche un'appassionata velista e anche un'artista quindi aveva dentro di sé delle doti creative notevoli come penso appunto sono certa che è anche una caratteristica di molti e molte di voi e vi consiglio io ho trovato una lettura interessante oggi ho potuto parlare solo di Karen Sparkle Jones ma vi consiglio una lettura interessante che è l'informatica al femminile un testo recente scritto da Cinzia Ballesi e Giovanna Giordano che fa una raccolta di figure appunto importanti femminili nell'ambito dell'informatica per renderle meno invisibili e include anche una parte sulle donne italiane che hanno avuto un ruolo importante in questo settore non avrò tempo di parlarne oggi ma vi consiglio questo testo se avete insomma voglia di proseguire in questo percorso di analisi di quelli che sono appunto i contributi dell'informatica femminile al femminile vi ringrazio e spero di non aver preso troppo tempo grazie alla professoressa Viviana Patti per questa presentazione che è proprio la dimostrazione di come le discipline possono collaborare la linguistica e l'informatica ma più in generale le scienze umane e le scienze esatte possono ibridarsi in modo molto molto interessante e affascinante naturalmente ribadisco che le classi interessate possono consultarci scrivendoci e magari chiedendo anche delle conferenze mirate se qualcosa colpisce proprio il vostro interesse potete chiedere sono sicura che le relatrici di oggi saranno disponibili a magari dedicare una conferenza apposita su un argomento specifico ad una classe ad una scuola o a chi ne fosse interessato quindi rimanete poi in contatto con noi e intanto presento la prossima partecipante la professoressa Simonetta Marcello del dipartimento di fisica che ci parla di Sian Xiong Buongiorno a tutte intanto condivido le slide potete vederle? sì 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 bene allora oggi io voglio parlarvi di Sian Xiong Buo diciamo che sono stata un po' indecisa su quale fisica scegliere perché sono tantissime come sono tantissime insomma le scienziate le donne insomma che hanno dedicato la gran parte della loro vita alla ricerca scientifica e non solo e non solo scientifica e ho scelto Sian Xiong Buo non solo perché è stata una grande fisica ma anche perché era cinese e e penso che l'educazione che ha avuto nella sua famiglia e la cultura cinese siano state fondamentali nella nella sua formazione proprio nella nella sua vita in generale Sian Xiong Buo nasce in un villaggio vicino a Shanghai e le viene dato il nome di eroe coraggioso e bisogna dire che il coraggio è stato proprio una qualità diciamo che ha contraddistinto il suo carattere durante insomma tutta tutta la sua vita il padre era un aveva una formazione come ingegnere ed era un rivoluzionario che aveva partecipato al rovesciamento della dinastia Manchu Qing nel proprio nell'anno insomma in cui nasce Chen Xiong Buo ed era anche un educatore che aveva delle idee progressiste molto avanzate che credeva proprio nel fatto che le donne dovessero avere un'educazione scolastica come come gli uomini e infatti fondò una scuola elementare per le bambine che fu frequentata proprio anche da Chen Xiong Buo e nel dopo la scuola elementare per continuare gli studi viene mandata in una famosa scuola per ragazze ma molto lontano da casa per cui passa praticamente tutti gli anni della sua adolescenza in un collegio senza poter vedere molto spesso la sua famiglia in questa decisione è stata anche molto importante la determinazione della sua bisnonna che era la matriarca della famiglia che voleva che Chen Xiong Buo potesse continuare a studiare nelle scuole migliori benché questa bisnonna non avesse mai studiato non avesse neanche fatto le scuole elementari in questa scuola che frequenta questo liceo che frequenta ha anche come maestro Hu Shi che è un famoso scrittore cinese che aveva anche contribuito molto alla modernizzazione della lingua cinese che la incoraggia a continuare gli studi dopo il liceo e ad andare all'università di Nanchino università dove poi si laurea nel 1936 e dopo la laurea parte alla volta degli Stati Uniti insieme ad una sua amica chimica perché viene incoraggiata a continuare gli studi con un dottorato che non era possibile fare in quel tempo in Cina con un dottorato appunto negli Stati Uniti viene incoraggiata da una sua professoressa di fisica che aveva fatto il dottorato all'università del Michigan quando sbarca negli Stati Uniti sbarca a San Francisco e va a visitare degli altri amici che studiano a Berkeley e quindi prima di andare nel Michigan si ferma a Berkeley e qui ha la possibilità di visitare un laboratorio di fisica che era il laboratorio diretto dal famoso fisico Lawrence che resta anche impressionato dalla preparazione che aveva in fisica Chen Shun Wu e le chiede di restare a fare il dottorato a Berkeley anziché andare in Michigan lei è felice di questa scelta anche perché nel Michigan le donne potevano entrare all'università diciamo non certo dalla porta principale quindi studia a Berkeley studia fisica sotto la guida di Lawrence che poi prenderà il premio Nobel perché è la per la progettazione e la realizzazione del primo ciclotrone che era una macchina acceleratrice poi anche sotto la guida dell'assistente di Lawrence Emilio Segret un altro premio Nobel per la scoperta dell'antiprotone e poi anche sotto la guida di Oppenheimer che è lo stesso un fisico insomma molto molto famosa soprattutto per il progetto Manhattan nel 1940 consegue il dottorato con una tesi di fisica nucleare e lavora sempre molto intensamente in laboratorio è la prima che arriva la mattina è l'ultima che va via la sera addirittura i suoi colleghi vanno spesso a chiamarla insomma per tornare a casa perché è molto tardi e diventa un'esperta nella fissione nucleare e in questo periodo che trascorre a Berkeley mantiene un forte legame con il suo paese d'origine la Cina va sempre a mangiare con gli amiche nei ristorantini cinesi e addirittura si fa mandare le stoffe dalla Cina per confezionare i suoi abiti col colletto alto che indossa poi per tutta la vita l'indossa anche quando va in laboratorio sotto un camice bianco e a Berkeley nella International House dove alloggiava diventa famosa non solo per la sua bravura in fisica ma anche per la sua eleganza non rinuncia mai alla sua identità alla sua cultura cinese e mantiene e anche alla sua femminilità e mantiene il suo nome che nessuno riesce a pronunciare in quel tempo molti molti cinesi che andavano negli Stati Uniti cambiavano o americanizzavano il loro nome e quindi insomma tutti cominciano a chiamarla Miss Wu e non immagina in quel periodo non immagina certo che non potrà tornare in Cina per quasi per 37 anni praticamente potrà tornare solo nel 1973 dopo il famoso incontro di Nixon con Chu Enlain del 72 che va portato al disgelo delle relazioni fra gli Stati Uniti e la Cina proprio perché prima era proibito dagli Stati Uniti andare nei paesi comunisti e quindi lei fu costretta praticamente a restare quasi negli Stati Uniti e nel 1942 sposa Liu Yuan un suo collega di fisica anche lì molto bravo e lo sposa nella casa di Robert Millican che era di nuovo un altro premio Nobel per cui insomma ha sempre lavorato ed è sempre stata vicina a persone molto a studiosi molto molto importanti e dopo il matrimonio siccome non riesce a lavorare all'università di Berkeley nonostante sia molto brava e tutti chiedono sempre consigli a lei quando hanno qualche problema perché era proprio difficile per una donna essere assunta come per insegnare in una università per cui segue il marito che va a lavorare a Princeton e si accontenta per un po' di insegnare in un collegio femminile dove però ci sono poche strutture per la ricerca scientifica e poi viene chiamata come istruttrice a Princeton Princeton era una università maschile e resta maschile cioè l'accesso era consentito soltanto agli uomini fino alla fine degli anni 50 inizio anni 60 e quindi lei è la prima donna che va a insegnare a Princeton e Oppenheimer la chiamava era tanto brava che Oppenheimer la chiamava l'autorità nella fissione nucleare e quando Enrico Fermi che aveva iniziato il progetto Manhattan per la bomba atomica nel 39 non riesce a risolvere un problema che bloccava la fissione nucleare Emilio Segret consiglia Enrico Fermi di chiedere a Misvu e lei risolve il problema però non viene chiamata a lavorare al progetto Manhattan per due motivi principalmente uno perché è una donna all'inizio quindi non viene chiamata per quella e anche perché è asiatica e gli americani facevano una grande confusione erano in guerra contro il Giappone però non distinguevano fra giapponesi e cinesi benché la Cina fosse lo stesso in guerra contro il Giappone quindi c'era una forte discriminazione insomma sia come donna sia per la sua origine etnica e soltanto alla fine della guerra nel 44 viene chiamata a far parte del progetto Manhattan ed ha un grande contributo per quanto riguarda la separazione dell'uranio 235 che è un elemento fissile dal è un nucleo fissile dall'uranio 238 dopo la guerra le viene offerto un lavoro alla Columbia University dove finalmente può fare ricerca perché ci sono delle strutture delle apparecchiature molto avanzate per la ricerca in fisica e diventa esperta del decadimento beta il decadimento beta è governato dalle interazioni deboli e praticamente è il decadimento di molti che c'è nelle sostanze radiative e in quel tempo molti fisici studiano questi processi di decadimento e ci sono diversi esperimenti che trovano insomma delle contraddizioni fra i risultati sperimentali e ci sono proprio dei puzzle diciamo per i fisici da risolvere perché molte cose non si riescono a capire fino in fondo e ci sono due fisici teorici cinesi ma che vivono e lavorano negli Stati Uniti che nel 1956 ipotizzano che per spiegare insomma queste discrepanze sperimentali che l'assimmetria di parità possa essere violata nelle interazioni deboli e l'assimmetria di parità la possiamo chiamare anche l'assimmetria dello specchio cioè un processo fisico un fenomeno fisico visto allo specchio deve essere come il processo che si sta specchiando diciamo cioè è il principio di simmetria che ci dice che non c'è distinzione fra destra e sinistra e allora loro per dimostrare questa loro idea chiedono a V proprio perché era una specialista di decadimento beta di fare un esperimento per dimostrare questa idea praticamente è una sfida molti fisici non accettano di affrontare questa sfida perché molti non credono assolutamente che la simmetria di parità possa essere violata è proprio qualche cosa che non riescono a molti fisici anche importanti non credevano assolutamente che potesse essere violata allora V accetta questa sfida e mette insieme un team di esperti di criogenia perché per fare l'esperimento che propone utilizzando il decadimento beta e il cobalto 60 è necessario scendere ad una temperatura vicina allo zero assoluto al di sotto proprio di un kelvin a 0,003 kelvin devono scendere e lavorano sei mesi senza sosta quindi saltando anche spesso pranzi cene dormendo poco o dormendo nel laboratorio e nel dicembre del 56 fanno questo esperimento dove appunto rivelano le direzioni degli elettroni nel decadimento del cobalto 60 e a inizio gennaio dimostrano del 57 dimostrano che l'idea di Lie Yang è corretta fanno una corsa Madame Wu fa una corsa per pubblicare questi dati perché a quel punto la notizia era diventata pubblica e molti fisici stavano cercando di ottenere lo stesso risultato per pubblicare ma per fortuna le riesce a pubblicare per prima con il suo nome per primo e quindi dimostra insomma che la simmetria di parità è violata nelle interazioni deboli quindi non è una legge di conservazione universale nel 1957 i due fisici teorici Lie e Yang vincono il premio Nobel per questa loro idea ma Chen Shun Wu viene esclusa e chiaramente ci resta molto male perché il fatto loro non avrebbero mai preso il premio Nobel se qualcuno non avesse dimostrato che avevano proprio che sperimentalmente che veramente succedeva quello che loro avevano pensato e comunque resta amica di Lie e Yang per lo stesso per tutta la vita Chen Shun Wu è stata la prima donna in moltissime occasioni in moltissimi ha avuto moltissimi diciamo moltissime occasioni in cui ha proprio rotto il ha infranto il soffitto di cristallo è stata la prima nel 43 come vi ho già detto è stata la prima istruttrice donna all'università di Princeton poi è stata la prima professoressa associata e anche professoressa ordinaria successivamente alla Columbia University poi ha avuto un dottorato onorario la prima donna che riceve un dottorato dall'università di Princeton la prima donna che vince il premio il famoso premio Comstock la prima donna che diventa presidente della società americana di fisica e la prima donna e poi anche l'unica bisogna dire fino ad oggi che vince il che riceve il premio Wolf in fisica dallo Stato di Israele questo è un premio molto importante paragonabile al Nobel che viene dato proprio molto spesso anche per sistemare situazioni che poi non sono state cioè per dare i premi che non sono stati dati col Nobel e poi nel corso di una ventina d'anni riceve anche moltissimi dottorati onorari da università importanti come Harvard Yale Princeton eccetera e voglio ricordare qui un'altra cosa molto importante che lei non soltanto si è dedicata alla ricerca scientifica ma è stata sempre anche una ha sempre combattuto contro le discriminazioni non solo quelle per le donne insomma le discriminazioni sulle donne ma anche le discriminazioni sull'etnia sulle idee politiche proprio perché ha ereditato dal padre questo suo spirito insomma anche rivoluzionario e nel 64 fa un discorso a un simposio del Massachusetts Institute of Technology sulla discriminazione di genere e voglio dirvi queste le parole che pronuncia alla fine di questo suo discorso vorrei sapere se gli atomi e i nuclei o i simboli matematici le molecole del DNA preferiscano avere un trattamento maschile o femminile per lei proprio la scienza doveva essere accessibile insomma anche la ricerca scientifica accessibile anche alle donne addirittura nel 1990 esprime pubblicamente la sua disapprovazione per il sessismo che c'è nell'accademia statunitense dichiarando che le donne in America sono veramente oppresse proprio perché alle donne non era concesso di studiare non a tutte le donne soltanto a poche era concesso di studiare di studiare e di fare ricerca perché poi il problema è anche quello dell'accesso alle strutture di ricerca e alle risorse finanziarie per fare ricerca quindi insomma tutta la sua vita combatte anche contro queste discriminazioni muore nel 1997 e le sue ceneri vengono riportate in Cina e vengono sepolte nel cortile della scuola Ming che aveva frequentato quando era piccola la scuola fondata dal padre e quale eredità ci lascia Chen Shun Wu intanto vorrei ricordare che quest'anno l'11 febbraio gli Stati Uniti gli hanno dedicato un franco bollo in occasione della giornata mondiale delle donne nella scienza proprio per ricordarla perché è una una delle scienziate insomma non è anche il suo nome non è molto noto chiaramente fra i fisici è un nome molto conosciuto fra i fisici soprattutto delle particelle i fisici che lavorano agli acceleratori di particelle però non tutti conoscono insomma la sua l'importanza che ha avuto per la ricerca in fisica lei è stata proprio un esempio di quello che una donna può realizzare quando le vengono date le opportunità per avere successo lei queste opportunità le ha avute per fortuna ha avuto una famiglia che l'ha incoraggiata l'ha sostenuta anche finanziariamente per andare a studiare fuori non era era una famiglia modessa ma era una famiglia che aveva moltissimi libri in casa e praticamente lei va a studiare negli Stati Uniti grazie alle risorse finanziarie di uno zio che la sostiene in questo suo desiderio di studiare la fisica come donne ci ha lasciato proprio questa eredità di non fermarci davanti agli ostacoli e alle discriminazioni e di non dubitare mai delle nostre capacità se volete diciamo ascoltare una la storia insomma in modo un po' più poetico la storia di Chen Shun Wu voglio consigliarvi questo spettacolo teatrale quando sarà possibile insomma tornare nei teatri è lo spettacolo La forza nascosta al quale ho collaborato che racconta la storia di Chen Shun Wu e di altre tre fisiche fra le quali anche un'italiana Mila Baldociolin e spero insomma che attraverso la narrazione insomma di queste di queste storie possiate conoscere molte altre donne scienziate come abbiamo fatto oggi insomma con questa presentazione per cui vi ringrazio di aver partecipato anche io sono disponibile ovviamente a fare ad approfondire anche questo quello che vi ho presentato se necessario grazie 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 davvero adesso siamo un po' di corsa abbiamo ancora due interventi io chiedo agli studenti di pazientare se possibile di restare con noi anche un pochino oltre l'orario della campanella lascio subito la parola alla professoressa Ornella Robutti del dipartimento di matematica che parlerà di Maria Gaetana Agnesi grazie buongiorno buongiorno a tutti e a tutte e grazie per essere qua presenti io parlerò di Maria Gaetana Agnesi che è una figura matematica del Settecento in Italia precisamente a Milano Maria Gaetana nacque a Milano nel 1718 ed era la terza di ventuno figli era molto brava in matematica e parlava bene l'italiano ma oltre l'italiano il tedesco il francese il latino il greco spagnolo e l'ebraico ebbe la fortuna di vivere in una famiglia in cui i genitori ma soprattutto il padre diedero la stessa educazione la stessa possibilità di formazione ai maschi come alle femmine e quindi lei ebbe l'opportunità di studiare ciò che le piaceva adesso vi faccio vedere in questo video una mia studentessa che l'ha in persona vi propongo un problema legato ad una curva la cosiddetta versiera che negli anni successivi verrà chiamata strega di Agnesi in mio onore e anche a causa di una traduzione errata dal latino del suo nome in futuro i matematici troveranno tante applicazioni di questa curva in vari campi dai fenomeni di risonanza e di fluidodinamica in fisica alla distribuzione delle voabilità vi invito quindi a costruirla e ad agruzzare la vista per scoprirne incredibili proprietà ora vediamo anche come si costruisce adesso costruiamo la versiera di Agnesi attraverso l'utilizzo di GeoGebra per prima cosa costruiamo una retta parallela all'asse delle x ad esempio y uguale a 4 costruiamo poi una circonferenza di centro 0,2 e raggio 2 segniamo il punto di origine degli assi con il comando punto scegliamo un punto qualsiasi sulla nostra circonferenza tracciamo la retta passante per tale punto e per l'origine degli assi segniamo il punto di intersezione tra la retta appena tracciata e la retta parallela all'asse delle x e da esso tracciamo la perpendicolare all'asse delle x a questo punto tracciamo la retta parallela all'asse delle ascisse e passante per il nostro geneico punto sulla circonferenza il punto di intersezione tra queste ultime due rette sarà il geneico punto della mia versiera cliccando con il tasto destro del mouse su quest'ultimo punto clicchiamo sul comando mostra traccia sempre cliccando con il tasto destro sul punto generico della mia circonferenza facciamo partire l'animazione otteniamo così in modo dinamico la curva avete visto quindi come sia fattibile la costruzione di questo oggetto della geometria inventato dalla Maria Gaetana Agnesi che si costruisce con concetti semplici di base come il punto la retta la circonferenza la retta perpendicolare a un'altra retta la retta parallela a un'altra retta l'intersezione di retta cioè il punto e questo è il disegno di questa curva la vedete qua esattamente come è stata costruita nel video che avete visto poco fa è una curva della geometria molto importante che ha determinate proprietà un'equazione e si colloca all'interno di una teoria geometrica delle curve ma trova applicazione anche in altri campi come abbiamo visto sia nella fisica sia nella statistica quindi è un oggetto matematico diciamo di una certa importanza qua vedete rappresentato il libro scritto dalla Agnesi la prima donna autrice di un libro di matematica e la prima a ottenere l'incarico di lettrice onoraria di matematica presso l'università di Bologna qua abbiamo invece una citazione di Goldoni vuol dire che la Agnesi era conosciuta all'interno del mondo culturale dell'epoca dice Goldoni nel medico olandese voi vi meravigliate che la padrona mia inclini al dolce studio della geometria stupitevi piuttosto che con saper profondo prodotto abbia una donna si gran libro al mondo è italiana l'autrice signora non olandese donna illustre sapiente che onora il suo paese vi ho parlato di Maria Gaetan Agnesi perché fa parte di un progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità che si chiama Matematica e Scienza Sostantivi Femminili vede la partecipazione del mio Dipartimento che è il Dipartimento di Matematica quello di Economia e quello di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche con tutti questi professori che vedete elencati qui sotto ha l'obiettivo questo progetto non solo di far conoscere queste figure femminili nel mondo della scienza in particolare della matematica ma anche quello di sviluppare delle abilità e delle attività attraverso delle attività laboratoriali con i gruppi di studenti e studentesse che sono coinvolti questo è il progetto è basato e organizzato su dieci incontri per un totale di dieci scienziate con attività laboratoriali corrispondenti come potete vedere qui Maria Gaetana Agnesi è una di questi personaggi molto importanti progetto per le scuole secondarie raccoglie 239 studenti e studentesse su 19 istituti e sono coinvolte anche due studentesse dell'università di Torino che si laureano in matematica sono Beatrice Marola ed Elisa Durbano ma abbiamo anche in campo negli stessi dipartimenti un progetto per le scuole primarie che è già terminato e ha dato risultati molto importanti ha coinvolto mille studenti e studentessi delle scuole primarie per studiare le differenze di risultati in matematica tra maschi e femmine e cercare di colmare se ci sono queste differenze cioè chiudere questo distacco diciamo e adesso partirà un progetto che inizia il prossimo anno scolastico con la formazione dei docenti piemontesi sempre delle scuole primarie in modo da attivare delle metodologie didattiche innovative per superare queste differenze di genere in matematica che ahimè in Piemonte sono abbastanza significative vi ringrazio per l'attenzione che avete dedicato fino a qua ho usato solo 8 dei miei 10 minuti d'altra parte bisognava correre e quindi se avete bisogno naturalmente sono a disposizione andate a vedere su Youtube il video completo che vi ho mostrato prima grazie molto grazie alla professoressa Ornella Robucci soprattutto per il tempo per il rispetto del tempo grazie infinitere bellissimi questi progetti per le scuole che ha presentato grazie adesso è la volta della professoressa non so se si è sentito prima ma ringraziavo la professoressa per aver rispettato il tempo e per aver presentato questi progetti per le scuole interessantissimi grazie ora è la volta della professoressa Silvia De Francia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche che parlerà di Bernardine Healy Buongiorno grazie per ultima dunque io parlo di Bernardine Healy ci sono un po' di interferenze ok allora per ultima io parlo di Bernardine Healy non prima però di essermi presentata molto brevemente sono ricercatrice in farmacologia al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche che rappresento le ricercatrici e i ricercatori in Senato Accademico di Unito sono divulgatrice scientifica su temi di farmacologia e medicina di genere sono giornalista in collaborazione con la stampa su temi di scienze e di salute Bernardine Patricia Healy nasce a New York nel 1944 si diploma in chimica e filosofia si laurea in medicina ad Harvard nel 1970 e di lì a poco comincia la scuola di specializzazione in medicina interna e cardiologia alla John Hopkins School of Medicine e comincia subito il suo percorso come ricercatrice al National Heart Lung and Blunt Institute dell'Istituto Nazionale di Salute Americana ma prima di proseguire nel suo curriculum professionale e scientifico mi piace ricordare che la Healy nasce a New York vive con le tre sorelle a Long Island e arriva da una famiglia di origini irlandesi il padre era un fervente cattolico quindi molto all'antica però quando lei da bambina le diceva che avrebbe voluto fare la suora in realtà il padre le diceva che non poteva farlo assolutamente perché altrimenti avrebbe sempre dovuto comunque obbedire ad un prete quindi lei ricorda la figura paterna delle interviste che poi hanno caratterizzato la sua vita professionale e scientifica come un'incredibile femminista e quindi proprio in questo ambiente così aperto lei cresce e capisce che ha tutte le possibilità come per tutte le donne di perseguire gli obiettivi in campo professionale e scientifico quindi diventa addirittura direttrice del reparto di unità coronarica del John Hopkins Hospital presidente dell'American Art Association nel biennio 88-89 direttrice prima donna direttrice dell'Istituto Nazionale di Salute Pubblica Americano nel 1991 addirittura nominata da George W. Bush tante le invidie tante le difficoltà nel portare avanti come donna un percorso scientifico e professionale così importante ma mi piace dire che per Bernardine Hilli tutto è partito dal cuore il cuore delle donne lei infatti nel 1991 quando era capo dell'Istituto di Salute Pubblica Americano si rende conto che le donne sono vittime di minori cure minori attenzioni e di errori grossolani che gravano sulle pazienti donne rispetto agli uomini e quindi che fa Bernardine pubblica un articolo sul New England Journal of Medicine che è una delle riviste più prestigiose dal punto di vista scientifico lo era all'epoca e lo è anche oggi e chiama questo articolo la sindrome di Yentl proprio perché prende la storia da un'eroina di un romanzo premio Nobel scritto da Isaac Singer questa ragazza Yentl per poter frequentare la scuola ebraica per studiare il Talmud ad un certo punto della sua vita era figlia di un rabbino ma il rabbino e il padre era morto da poco vuole fortissimamente frequentare la scuola ebraica allora cosa fa si veste da uomo si taglia cortissimi i capelli e riesce comunque a frequentare la scuola quindi Bernardine Hilly pubblica questo articolo lo chiama la sindrome di Yentl considerando quanto le donne non fossero adeguatamente curate per patologie cardiovascolari in sostanza Bernardine Hilly nel 1991 dice che le donne con un infarto o con un ictus negli Stati Uniti d'America avrebbero dovuto per essere adeguatamente curate in sostanza fingersi uomini il riferimento a questo studio lei l'aveva fatto l'aveva visto proprio nei pazienti nelle persone che quotidianamente si recavano nei reparti nei suoi reparti la malattia coronarica come tutte le malattie fino all'inizio degli anni 90 erano state studiate sul campione maschile sulla popolazione maschile e quindi non il sintomo caratteristico dell'infarto si ritrovava nelle donne il sintomo studiato quello maschile il dolore toracico che poi irradia al braccio sinistro ma le donne con un infarto possono avere anche semplicemente stanchezza debolezza nevralgia mascellare sudorazione ansia e quindi recandosi in pronto soccorso ancora oggi spesso possono essere ospedalizzate in un reparto differente quale ad esempio medicina interna oppure chirurgia e ancora fece il punto Bernard De Nili su quanto i farmaci potessero essere poco appropriati nella cura nella prevenzione delle malattie cardiovascolari l'aspirinetta ancora oggi la cardioesperina è un farmaco che si dà per prevenire le patologie cardiovascolari in realtà è stato testato principalmente su un modello maschile quindi Bernard De Nili si ritrova a gettare le fondamenta per la medicina di genere che è un approccio alla cura di taglio multidisciplinare volto a comprendere i meccanismi attraverso cui le differenze di sesso e di genere agiscono sullo stato di salute sull'insorgenza e il decorso di molte malattie nonché sulla risposta ai farmaci mi piace sempre dire che la medicina di genere è la medicina che cura le persone con tutte le variabili che caratterizzano le persone nella ricchezza della popolazione di cui facciamo parte e non le malattie in realtà questo è più forse un vezzo da sociologi non debbo spiegarlo io però in realtà è un concetto che ci troviamo così forte oggi nella quotidianità della nostra vita la differenza fra sesso e genere passando attraverso il concetto dell'identità di genere è così importante sappiamo che il sesso è come nasciamo e il genere è come diventiamo nel corso della nostra vita o come le influenze della famiglia o della società o lavorative ci spingono a diventare il genere è questo costrutto molto poliedrico caratterizzato da comportamenti valori attitudini abitudini che si interseca con l'ambiente in cui viviamo con la biologia che ci caratterizza con la genetica allora Bernardin si ritrova alla fine degli anni ottanta in un momento in cui il modello di riferimento di studio per le malattie di risposta ai farmaci era ancora il modello maschile come enunciava Vesali o padre dell'anatomia moderna 450 anni prima e la donna veniva considerata soltanto interessante degna di studio dal punto di vista della sindrome quella che veniva chiamata la sindrome del bikini cioè all'organismo femminile veniva riconosciuta una sua specificità soltanto in riferimento ai caratteri sessuali io ero molto piccola però ricordo queste campagne di prevenzione negli anni ottanta in cui per la donna la salute era considerata soltanto il benessere dal punto di vista riproduttivo quindi le campagne per la prevenzione del tumore alla mammella per la prevenzione del tumore all'utero ricordando e facendo riferimento che dal punto di vista ancestrale dal punto di vista sociologico la donna funziona soltanto se è moglie e se è madre quindi Bernardine Hilly si trova in questo momento così difficile e propugna la Women Health Initiative cioè l'equità di arruolamento per uomini e donne nei test e nelle sperimentazioni relative alle malattie e ai farmaci e in sostanza lei all'inizio degli anni novanta mutuando quello che fu il discorso di John Kennedy alla fine John Kennedy alla fine degli anni sessanta lei ipotizzava la necessità di dover fare una passeggiata sulla luna per le donne cioè bisognava puntare davvero al massimo e così getta le basi per la medicina di genere in cardiologia ma non solo sappiamo quanto può essere importante oggi ad esempio l'approccio genere specifico dal punto di vista infettivologico nel momento in cui il coronavirus abbiamo visto attacca prevalentemente da una sintomatologia peggiore negli uomini rispetto alle donne Bernardinili si trova comunque a dirigere l'istituto di salute nazionale in un momento americano in un momento in cui ci sono 12 direttori maschi su 13 oltre 240 i responsabili uomini dei settori di ricerca su meno di 300 174 sono i ruoli di alto livello ricoperti dagli uomini e lei che innova che vuole assolutamente cambiare tutto che parla dell'importanza dell'arruolamento genere specifico quale idea democratica di amministrazione sanitaria viene semplicemente definita come l'irascibile diva della ricerca biomedica nel 1993 lascia costretta la direzione dell'istituto viene candidata al senato dal partito repubblicano poco dopo ma non viene eletta torna in accademia diventa rettrice dell'ohio state university college fino al 1999 quindi una figura strepitosa cardiologa docente universitaria femminista convinta per natura per com'era nata l'idea di femminismo nella sua famiglia scienziata pioniera della medicina di genere amministratrice pubblica brillante nel 1999 viene diagnosticato un tumore al cervello comincia una lunga battaglia che la porta poi a spegnersi il 6 agosto del 2011 in Ohio tutte le sue carte sono oggi ordinate in parte digitalizzate in un fondo archivistico la National Library of Medicine di Bethesda nel Maryland chiudo dicendo che ho raccontato insieme a Cinzia Ballesio la storia di tante di queste donne strepitose ma così osteggiate dalle società maschili che hanno caratterizzato la loro quotidianità di vita e professionale in un libro il primo libro di taglio divulgativo uscito sulla medicina di genere in Italia uscito l'anno scorso e chiudo davvero pensando che sia Bernardina a tracciare questo cuore su umani bambine e ringraziarvi dell'attenzione fin qui concessa grazie grazie per questo per questo intervento che è molto attuale perché se non erro c'è stato uno studio abbastanza recente in cui si dice che le donne che si ammalano rischiano di morire molto più degli uomini perché non vengono curate o non c'è chi si prende cura di loro allo stesso modo quindi ci fa riflettere e soprattutto sono molto contenta perché abbiamo davvero spiegato perché donne di coscienza non si tratta solo di scienziate ma si tratta di qualche volta di attiviste femministe attiviste per i diritti etnici umani di genere e dunque appunto donne che hanno avuto un ruolo pubblico di intellettuali a 360 gradi al di là della disciplina scientifica che rappresentano quindi grazie alle relatrici grazie a tutti per la partecipazione se c'è qualche domanda io vi invito ad aprire il microfono e a pronunciarla immediatamente anche solo qualche osservazione qualche vostro feedback per dirci cosa ne pensate come avete trovato questo incontro che speriamo sia il primo di una lunga serie dedicata alle donne di coscienza mi sentite sì prego buongiorno innanzitutto volevo ringraziare le relatrici perché è stata una conferenza molto interessante e volevo chiedere rispetto alla medicina di genere quindi approfondire le differenze anche il differente sviluppo di varie patologie queste nuove scoperte vengono anche inserite nei programmi di formazione dei nuovi medici perché oppure rimangono come dire isolate all'interno di aree specifiche grazie per la domanda allora la la normativa italiana per fortuna ci è venuta incontro e l'Italia è il primo stato in Europa che nel 2019 ha vallato il piano per l'arruolamento della e la diffusione della medicina di genere nei reparti italiani in questa legge è contenuta anche la parte di formazione al momento però ci sono pochissimi corsi di medicina e di infermieristica nei quali l'accezione di genere cioè le differenze nello studio delle malattie nella risposta ai farmaci è inserito nel corso di studio io sono una delle tre o quattro in Italia che inserisce nel proprio corso di studi tutta questa parte importante secondo me senza la quale non possiamo proprio più andare avanti ma auspico che nel futuro prossimo decisamente i colleghi e le colleghe comincino a inserire queste informazioni nei corsi di formazione intanto per legge siamo già obbligati ma il cammino è ancora lungo grazie grazie a lei per la risposta molto esaustiva grazie a tutti Carmen il microfono spento me ne sono accorta grazie sì volevo dire solo un'ultima cosa dicevo perdonatemi non posso entrare nelle questioni tecnico-scientifiche di ciascun intervento perché avete presentato delle scienziate che si occupano di cose molto molto specifiche però butto lì una considerazione di cui magari parliamo poi in futuro nell'intervento di Elisa Corino mi ha colpito quando diceva tutto sommato le donne sono scienziate tra scienziati insomma come dire che nell'università quello che conta è essere degli scienziati e quindi diventare un po' androgini invece in altri interventi veniva sottolineata come il genere conta e fa una differenza allora questo magari potrebbe essere un tema di riflessione o di dibattito per il futuro o chissà per i ragazzi delle scuole lascio la parola a tutti coloro che vogliono intervenire oppure se ci sono domande incrociate fra le relatrici chiedo scusa prego innanzitutto ringrazio e mi complimento con le relatrici io purtroppo ho potuto partecipare soltanto ad iniziativa avviata perché avevo una lezione precedente e mi spiace anche che molti dei miei studenti non abbiano potuto partecipare o non completamente perché avevano magari altre lezioni si sono dovuti inserire dopo chiederei se fosse possibile fruire di una registrazione a posteriori di questa di queste dell'attività di oggi oppure avere a disposizione le slide mi scuso se magari questo l'avete già detto all'inizio ma appunto essendo intervenuta più tardi magari ho perso l'inizio sarebbe molto interessante secondo me per noi insegnanti far riflettere non solo le studentesse ma anche i nostri studenti maschi su questi temi certo grazie allora guardi noi ne parleremo e sicuramente le daremo una risposta su questo sia per la registrazione sia per le slide che possiamo mettere in condivisione e quindi le chiediamo per cortesia di restare in contatto con noi di scriverci in modo che possiamo capire quale formula è migliore ripeto che tutte le relatrici sono anche disponibili per eventuali conferenze specifiche di settore per le scuole quindi potete fare richieste di vario tipo grazie ok grazie allora se non c'è altro abbiamo abbiamo buongiorno scusi prego non ho fatto un intervento prima perché stavo pensando bene come dire le cose però ho trovato estremamente interessanti gli argomenti che sono stati presentati e soprattutto l'ultimo intervento mi è piaciuto molto e ho trovato che sono state sollevate delle questioni non banali perché soprattutto quando si parla di donne negli ambiti che solitamente storicamente sono insomma occupati da uomini non si parlano di alcuni aspetti come ad esempio la mascolinizzazione o che le donne che appunto operano in ambiti tipicamente maschili vengono considerate eccessivamente appassionate o fuori di testa quindi ho trovato interessante e ho trovato la la differenziazione tra genere e sesso biologico interessante non scontata quindi grazie 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 per questa osservazione è appunto sicuramente interessante dibattere anche un po' di queste cose posso chiedere una domanda sì volevo chiedere alla signora De Francia sul suo argomento grazie mille per la presentazione ma dal punto di vista pratico dato che purtroppo siamo in un sistema che appunto non prende ad esempio dolori cronici o comunque in generale la salute delle donne sul serio il paziente dato che il sistema non è ancora avanzato da questo lato il paziente dalla sua parte cosa può fare allora intanto volevo grazie volevo aggiungere solo un piccolissimo commento se non sbaglio era Dacia che parlava prima almeno questo era il nome che si illuminava mentre lei parlava è importante la differenza fra sesso e genere assolutamente io ormai la do per scontate come me io fra l'altro sono a medicina ma i corsi di sociologia sono ricchissimi di interventi di questo tipo non solo nell'università di Torino ma soprattutto sul concetto di identità di genere con un'unica differenza che mentre le colleghe e i colleghi sociologi sono volti giustamente a voler eliminare le differenze fra l'uomo e la donna e ne sono convinta anch'io perché nel momento in cui si fa lo stesso lavoro si deve percepire lo stesso compenso economico quindi questo è essenziale e dobbiamo cominciare ad educare i nostri figli ad una parità di genere linguistica e questo anche è essenziale e sicuramente Lisa potrebbe parlarne a lungo di questo concetto ma dal punto di vista clinico-terapeutico cioè quello che riguarda il mio lavoro è importante sottolineare le differenze gli uomini e le donne dal punto di vista costitutivo fisiologico e biologico sono diversi e quindi è assolutamente necessario per garantire parità ed equità di trattamento a tutta la popolazione e considero anche la popolazione transgender i gender fluid che al momento sono messi ancora peggio delle donne quindi è importante sottolineare studiare e le differenze non in senso discriminante ma in senso di arricchimento la domanda l'ultima invece di VF se non sbaglio grazie dal punto di vista pratico io non parlerei di una scarsa considerazione della salute delle donne perché comunque da una decina d'anni il concetto di medicina di genere anche in Italia anche se molto lentamente sta entrando a far parte del concetto di salute pubblica ma io sono farmacologa per quanto vi riguarda intanto è importante informarsi bene e da tutti i punti di vista siete giovani e avete ogni possibilità di informazione approfondite più fonti quindi leggete studiate e contattate noi esperti che siamo a disposizione e poi per quanto riguarda ad esempio un esito strano di malattia un andamento diverso oppure un effetto collaterale particolare ad esempio i vaccini di oggi sul coronavirus testati in parte sulla popolazione maschile che quindi danno molti più eventi avversi sulle donne o i farmaci studiati soltanto sull'uomo che danno tossicità alle donne continuativamente segnalatelo agli enti regolatori all'AIFA ci sono semplicemente dei siti a cui possiamo tranquillamente avere accesso o se non riuscite diciamo a contattare direttamente le agenzie le agenzie italiane del farmaco ma con un modulo online è fattibile ditelo al vostro medico curante ditelo allo specialista io ho riportato questo effetto collaterale che non è presente nel bugiardino e ancora a carico di moltissime donne la tossicità da farmaco proprio perché moltissimi dei farmaci ad oggi in commercio sono stati testati unicamente sul modello maschile non voglio togliere però troppo tempo perché cercatemi via su internet mandatemi delle mail io rispondo a tutte e tutti e in realtà mi piacerebbe che le mie colleghe della mattinata di oggi esprimessero un'opinione per dire io ad esempio ho trovato interessantissima la mappa con le lucine delle lingue morenti l'ho trovato incredibile non ci avevo mai pensato ma potrei fare commenti su tutte adesso mi taccio perché sennò divento poi monopolista io avrei una domanda sì prego lei ha portato l'argomento delle persone transgender esistono per caso dei programmi di integrazione nei campi soprattutto scientifici in cui purtroppo non sono prese sul serio quanto gli uomini o addirittura anche le donne che abbiamo già sottolineato al momento gli studi clinici escludono le popolazioni gender fluid gli studi di sperimentazione delle malattie e gli studi di sperimentazione dei farmaci le donne sono arruolate per un 20-22% ad oggi 2021 un momento di silenzio di tristezza sì ecco le discriminazioni sono varie sono sono etniche di genere adesso insomma sono sono veramente tanti i gruppi discriminati più o meno consapevolmente più o meno insomma intenzionalmente se posso intervenire un momento invece su un discorso più ampio non so quanto i ragazzi ci sentono ora credo che sia magari importante anche dire che il problema delle women in science è diventato un tema molto molto importante quindi in realtà oggi siamo qui anche perché siamo già sulle spalle di una tradizione molto lunga di studio e io penso ad esempio che a Torino insieme con colleghi abbiamo proposto un gruppo di women in science alla fine degli anni settanta che è stato proprio uno dei primi in tutta Italia e poi di lì sono state una quantità enorme di analisi interessi e adesso è importante pensare che proprio uno dei punti veramente considerati anche pensiamo che nei progetti europei c'è sempre il discorso della parità di genere e che quindi il ruolo di arrivare in qualche modo a un problema in cui non siano soltanto le ragazze presenti e come diciamo la famosa base della piramide e quindi nella forma dei laboratori di qualsiasi tipo di scienze da quelle linguistiche come abbiamo visto umanistiche filosofiche ma ovunque che siano solo la base presenti come dottorande dove sono effettivamente spesso più numerose ma che effettivamente siano molto più presenti e rappresentate anche nei gradini superiori quindi questo è veramente uno degli scopi attuali uno dei punti a cui noi dobbiamo arrivare quindi uno dei per cui sono veramente molto contenta che Carmen tu abbia organizzato questo perché è già proprio un piccolo momento per portare a coscienza delle ragazze dei ragazzi delle scuole superiori che esiste questo problema e quindi noi dobbiamo metterci veramente al lavoro per trovare non dico delle soluzioni risolutorie ma almeno per esserne consapevoli e che in realtà è proprio un problema attuale sempre presente e quindi grazie ancora ecco di questo io ho molto apprezzato tutti i diversi interventi e un piccolo commento volevo fare sul cognome che è stato proposto molte volte il discorso del rapporto della donna ricercatrice impegnata prende o non prende il nome del marito allora questo è banale per i ragazzi adesso perché noi sappiamo che noi abbiamo una legge che almeno dal 1975 che dice chiaramente che la donna in Italia mantiene il proprio cognome ma una volta non era così e in molti paesi ma Australia Giappone ma anche in Europa alcune colleghe tedesche vedo ancora che assumono adesso il nome del marito quindi questo è veramente di nuovo un altro punto importante perché quello che io cerco di dire nelle mie conferenze è che il cognome è proprio brand è proprio come è stato anche detto è la propria identità quindi anche questo è un altro momento di riflessione che vorrei fare anche alle ragazze grazie grazie Paola se posso dire una cosa riguarda questo per esempio Chen Shun Wu spesso veniva chiamata col professoressa Yuan praticamente che è il cognome del marito e lei si arrabbiava si arrabbiava moltissimo e diceva io sono la professoressa Wu non sono la professoressa Yuan proprio manteneva il suo cognome ci teneva particolarmente e per fortuna l'esperimento che ha fatto è famosissimo col nome dell'esperimento di Wu proprio col suo cognome ma molte scienziate americane per esempio penso a Vera Rubin il suo cognome era Vera Cooper Rubin era il cognome del marito però ce la ricordiamo col cognome del marito perché così veniva chiamata e quindi è vero che proprio anche negli Stati Uniti ancora insomma in tempi recenti veniva usato il cognome del marito e sono d'accordo che invece sia importantissimo usare il proprio cognome io sarei anche per usare il cognome materno addirittura per linea materna quello sarebbe ancora più corretto diciamo se proprio vogliamo dirla tutta insomma se posso dire una cosa anch'io come matematica vi ho presentato alcuni progetti da cui abbiamo visto che le differenze tra i risultati delle femmine e dei maschi ci sono in matematica allora uno potrebbe pensare magari eventualmente di dire beh vuol dire che i maschi sono più intelligenti in matematica rispetto alle femmine che i cervelli sono diversi non è così purtroppo non è così per fortuna perché il discorso è che se noi andiamo a vedere in tutto il mondo in diversi paesi del mondo le differenze di risultati tra maschi e femmine che cosa succede succede che queste differenze sono molto diverse in alcuni paesi sono a favore delle femmine in altri paesi sono a favore dei maschi in Italia invece purtroppo lo devo dire sono a favore dei maschi allora questo è un problema di tipo culturale sociale economico e di storia della scuola anche l'impatto che possono avere gli insegnanti su questioni di genere può essere determinante nel determinare appunto certi risultati allora che cosa abbiamo trovato con uno di questi progetti dal punto di vista della ricerca scientifica che noi abbiamo fatto abbiamo trovato che determinati metodi didattici possono favorire invece il fatto che le femmine abbiano risultati migliori e che quindi questa differenza gap si chiama in inglese questa differenza vada ad assottiliarsi e non ci sia più allora la scelta è perché vi ho citato questi progetti sulla scuola primaria perché partendo con bambini piccoli partendo con insegnanti della scuola primaria e andando avanti possiamo costruire una società diversa possiamo costruire una società in cui le femmine culturalmente abbiano maggiore fiducia in se stesse non abbiano problema di buttarsi a risolvere testa risposta multipla o certi tipi di domande in cui si sa che i maschietti magari si buttano un po' di più quindi ci sono tanti fattori fattori di tipo culturale scientifico didattico che possono determinare questi tipi di risultati diversi tra maschi e femmine l'impatto della scuola è fondamentale sulla società a questo punto se noi formiamo i bambini e le bambine se formiamo gli insegnanti a insegnare in una maniera diversa da quella tradizionale forse possiamo migliorare questi tipi di risultati e quindi chiudere questo gap che è l'obiettivo su cui stiamo lavorando io avrei una domanda non so se c'è ancora tempo di sì sì prego ok grazie mille prima di tutto ringrazio tutte le relatrici per gli interventi molto interessanti la mia domanda è rivolta un po' a tutte quante ossia visto che oggi hanno partecipato anche tantissime studentesse per l'appunto se aveste quali potrebbero essere dei consigli da dare ipoteticamente ad una studentessa io non lo sono però è interessante anche avere un altro punto di vista allora facciamo un giro in ordine come erano i nomi della locandina così siamo anche più riconoscibili Elena vuoi cominciare tu? chiedo scusa avevo un problema col computer ma il consiglio il consiglio dal mio punto di vista è credere in se stessi cioè credere nel rispetto del prossimo dell'essere umano indipendentemente da tutto quello che è extra per così dire io dico la verità personalmente vivo una situazione un po' al contrario nel senso che mi trovo dal punto di vista didattico a essere molto più circondata da studentesse noi abbiamo una percentuale di studenti maschi sempre sempre più piccola questo credo che riguardi anche altri colleghi insomma però nella vita diciamo quotidiana forse soprattutto pensando all'ambito universitario quindi di docenti ricercatori personale tecnico eccetera eccetera invece le cose sono sono ancora un po' diverse ecco non sono così se posso aggiungere una piccolissima considerazione personalmente mi sono trovata abbastanza di recente a riflettere e a cercare di applicare il più possibile questa omogeneità diciamo di linguaggio perché vedo che appunto anche nel nostro ambito universitario accademico culturale c'è sempre tanta fatica a usare i termini corretti e quindi sono quasi sempre quelli al maschile questo sia nei rapporti diciamo di tutti i giorni sia anche nello scritto e questo per certi aspetti è ancora più grave perché forse scrivendo si dovrebbe avere quel minimo di tempo in più per riflettere e usare appunto la terminologia giusta ho osservato che anche in quelle occasioni in cui a livello appunto di Ateneo sono stati mandati lanciati questi messaggi forse da qualcuno sono stati interpretati con un po' di fastidio di sufficienza per dire sì vabbè ma cosa importa no invece importa ecco questo questo è uno degli aspetti delle considerazioni che vorrei davvero anche trasmettere alle studentesse per ritornare alla domanda grazie 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 scusa Elisa io sarò molto breve allora io potrei intrattenervi per ore sul linguaggio di genere questo faccio nella vita quindi insomma però mi estengo anche perché siamo reduci dalle grandi trattazioni sui giornali posto il caso Sanremo avete presente insomma se ne parla quotidianamente diciamo che ormai è un fatto all'ordine del giorno non apro quindi la parentesi per quanto il tema sia effettivamente significativo il consiglio da dare alle studentesse io vi direi fate qualcosa che vi piace fate qualcosa che vi piace che vi appassioni perché la motivazione e la passione sono quelle che vi portano lontano e che vi portano a non mollare di fronte alle difficoltà ma questo a tutti cioè non è solo alle studentesse cioè scegliete qualcosa che vi dia della soddisfazione un po' quello che dico sempre ai miei tesisti non fate una tesi per me la fate per voi deve essere qualcosa che vi piace altrimenti abbandonate per la strada e poi faccio un appello faccio un appello agli studenti maschi invece io mi occupo di didattica anche no di didattica delle lingue e oggi pensando alla scuola la scuola è prevalentemente femminile e invece e quindi è come se questa differenza di genere si fosse poi anche un pochino suddivisa all'interno delle varie categorie per cui la professoressa e la maestra è femmina il professore universitario è maschio bisogna meschiarsi ragazzi voi dovete cominciare ad andare a insegnare a scuola ci vogliono più professori maschi perché non è un settore solo femminile anzi deve essere anche lì deve essere il contrario deve essere il contrario perché insomma l'appello è quello di pensare che cioè non sono categorie separate non solo perché le donne possano accedere a quei mestieri ma perché gli uomini possano tornare a fare certi mestieri paola si grazie grazie della domanda in realtà anch'io esattamente come lisa dico potrei dire la stessa cosa indipendentemente dal genere segui la tua inclinazione segui quello che ti piace segui veramente quello che hai dentro pensa che il genere è una forza non è una limitazione e quindi assolutamente devi seguire indipendentemente da quelli che possono essere degli stereotipi e quindi detto questo dico poi ancora una volta fatto la tua scelta qualunque essa sia dico invece a favore di una scelta che vada invece verso una facoltà scientifica dico questa se quella è la tua inclinazione hai la possibilità di fare un percorso quello della scienza che veramente ti permette poi dei momenti di creatività di libertà che sono sicuramente di grande soddisfazione adesso anche che tu puoi nella tua vita riesca ad avere una certa solidità che purtroppo nelle attuali politiche italiane non sono così garantite quindi diciamo forse la prima tappa è del dire segui veramente quello che tu hai nel cuore senza pensare diciamo subito immediatamente alla professione quella poi magari viene dopo e quindi dico sì essere veramente liberi questo mi sembra che sia la cosa importante comunque grazie per la domanda grazie Enrica io mi unisco alle precedenti direi appunto indipendentemente dal genere seguire le passioni e non demordere nel senso che a volte può essere più difficile magari per le donne ma non solo nel senso quindi secondo me appunto anche alla luce delle storie che abbiamo sentito bellissime non demordere e continuare nonostante le difficoltà ecco che si incontrano grazie Viviana Simonetta allora io volevo fare per dire una cosa diversa più legata in particolare all'informatica sicuramente e alle STEM credere visto che mi chiede un consiglio per le ragazze credere assolutamente nella propria capacità di affrontare le materie STEM io sono stata fortunata perché ho avuto una madre biologa e una bisnonna matematica di cui parlerò in un altro incontro quindi la mia famiglia non c'è mai stata quest'idea che io non potessi fare questa cosa che io non potessi studiare materie scientifiche ma so che è un problema per molte conosco molte ragazze che hanno un sacco di insicurezza a questo punto di vista e sono d'accordissimo con Ornella Robutti quando dice che bisogna partire dalle elementari veramente per cercare di anche con molto metodo di cercare di non di fare che non si formi quest'idea che le donne non possono fare STEM questa cosa non è vera è falsa però è ancora molto radicata purtroppo e quindi bisogna veramente anche che voi vi convinciate prima di tutto che se per caso pensate questo vi state sbagliando quindi seguitele le vostre inclinazioni ma non seguitele pensando che tutta quella parte lì vi è perclusa cioè seguitele liberamente pensando di poter scegliere tra tante cose l'altra cosa che volevo dire è che l'informatica è molto meno monocolore di quanto sembra anche lì ci sono un sacco di stereotipi l'informatica è molto multicolore ci sono tantissime cose interessanti da fare che sono molte di più di quelle che vi immaginate e quindi anche lì se per caso avete delle curiosità da quel punto di vista secondo me è giusto investigarle appunto ho voluto insistere sulla linguistica computazionale perché è un mondo che per esempio in cui in particolare questo si vede bene spero che si sia visto anche grazie diciamo alla relazione con l'intervento con Elisa che ha approfondito più il versante linguistico e l'altra cosa importante è quello che dicevo prima che in un mondo in cui le applicazioni informatiche sono sempre più pervasive davvero non è possibile che le donne lasciano la conoscenza rispetto allo sviluppo di queste applicazioni e anche di tutto quello che di teorico ci sta dietro agli uomini ci deve essere diversità ci deve essere diversità e genere un asse qui stiamo parlando di genere quindi sottolineo quello ci sono anche tutti gli altri assi che riguardano gli altri assi di discriminazione che sono anche stati accennati dagli interventi di Silvia e anche di altre colleghe quindi sicuramente questo ultima cosa pensate anche al lavoro quando si sceglie che cosa fare nella vita uno deve anche pensare che magari dopo aver studiato vuole trovare un lavoro l'informatica c'è un sacco di lavoro proprio anche per il fatto che sta diventando sempre più pervasiva e quindi non fatevi anche lì mi chiedo quando vedo queste percentuali del 90% di studenti uomini che si scrivono in informatica e 10% donne mi chiedo ma quando scelgono diciamo la facoltà non pensano anche magari di trovare un lavoro ci sono anche tantissimi altri percorsi in cui si trovano dei bellissimi lavori però anche quello si sa che per esempio sono dei percorsi in cui è molto facile trovare un lavoro c'è molta richiesta quindi considerate in inclinazione ma anche magari aspetti pratici di questo tipo e soprattutto veramente non restate fuori dalla capacità di maneggiare queste questioni tecniche che sono tecniche sì ma sempre di più diventano parte delle nostre vite quindi veramente sbagliato che le donne rimangano fuori da questo tipo di conoscenza grazie continuiamo pure io voglio solo farvi un applauso e ringraziare tutte grazie io volevo aggiungere soltanto alcune cose su questo su questa domanda che hai fatto oltre al fatto di seguire le proprie passioni le proprie inclinazioni io direi alle ragazze di essere sempre se stesse di far crescere la propria autostima di avere più fiducia in se stesse e quando dico di essere se stesse non fatevi direi non fatevi influenzare da come si comportano i maschi non dobbiamo non prendiamoli come modelli non dobbiamo diventare come loro non per me non vuol dire questo parità di genere manteniamo proprio anche le nostre caratteristiche femminili e le nostre caratteristiche di donne e sfidiamo i nostri insegnanti chiedendo loro ma non ci sono scienziate non ci sono artiste non ci sono letterate in questa disciplina che ci sta insegnando perché ce ne sono tantissime dall'antichità dall'antichità ad oggi esiste proprio c'è un lignaggio femminile scientifico e non solo scientifico artistico letterario eccetera è un antichissimo lignaggio femminile e dobbiamo conoscerlo è importante che noi conosciamo come donne che voi ragazze conosciate tutte le donne scienziate letterate artiste ingegnere eccetera che ci sono state nel passato per cui è importante nominarle è importante ricordare che ci sono state e quindi sfidate i vostri insegnanti e chiedete ma non ci sono donne poi se vi dico no no in questo campo donne non ce n'erano andate voi a cercarle e poi glielo dite e così le fate conoscere anche i vostri compagni maschi che molti pensano anche molti ragazzi pensano che non ci siano state donne nel passato e quindi questo per me è molto importante ricordarle nominarle e restiamo anche legati a quello che ci hanno insegnato non solo le nostre mamme ma le nostre nonne e bisnonne che hanno combattuto moltissimo per la parità di genere hanno fatto battaglie hanno fatto lotte che oggi un po' stanno passando a volte di moda e ci stiamo dimenticando e quindi chiediamo alle nostre nonne e bisnonne che cosa hanno fatto quando erano piccole le lotte le lotte che hanno fatto grazie Ornella poi Silvia anche io mi unisco al coro parlo sia ai maschi che alle femmine in uguale misura con uguale enfasi per dire inseguite i vostri sogni e sarete felici la felicità consiste proprio nel fare per tanto tempo quello che ci piace allora se ci piace studiare una disciplina fare un determinato mestiere inseguiamo questo sogno ora è chiaro che possiamo trovarci in una famiglia che ci favorisce come la Maria Gaetana Agnesi e quindi avere la strada più facile in discesa ma potremmo anche trovarci in una famiglia che non ci favorisce e quindi la strada sarà in salita in questo caso è bene argomentare spiegare quali sono le proprie necessità la propria visione i propri sogni per poterli raggiungere e quindi cercare la comprensione della famiglia in questo e con questo chiudo ci sono io grazie Danilo ciao Danilo grazie che è una mia conoscenza del dipartimento io aggiungo che appunto la donna di cui ha parlato Viviana Karen Spar Jones era laureata in storia e filosofia ma è stata una risorsa per l'informatica mondiale quindi aggiungo l'importanza di cambiare idea di sparigliare le carte completamente di rovesciare i tavoli che è ormai una frase che sentiamo continuativamente ma io ad esempio dopo le scuole media l'unica cosa che volevo fare era approfondire i miti degli dèi e degli eroi ho fatto il liceo classico e poi dopo l'unica cosa che volevo fare era un percorso scientifico quindi non abbiate timore di cambiare idea nel tempo e di appassionarvi in modo multidisciplinare a ciò che vi accompagna dentro e ciò che sentite quindi tutta la passione da inseguire di cui hanno parlato già le mie colleghe grazie davvero grazie a tutte a tutti grazie mille grazie credo che sia ora di chiudere siamo andati veramente oltre ogni aspettativa quindi grazie per il tempo che ci avete dedicato sia per chi interveniva sia per chi ascoltava e speriamo di rivederci presto Dica posso soltanto chiedere un'ultima cosa sì innanzitutto volevo ringraziare per questi interventi che sono stati tutti molto interessanti e poi volevo chiedere in che modo si va a comportare la medicina di genere nei casi di intersessualità potremmo parlarne a lungo però in realtà la medicina di genere lo dico semplicemente non ha ancora messo a punto gli strumenti e quindi spesso chirurghi o medici specialisti si trovano a dover intervenire su persone che hanno un bagaglio ormonale di arrivo differente da quello che si pensava di trovare e quindi è ancora tutto un campo da scrivere e da costruire che spero che alcuni di voi magari possano aiutarci a delineare nel futuro prossimo grazie io dico un'ultima cosa un ringraziamento a Elena Ugazio perché era stata lei ad avere in origine questa idea di raccogliere una tavola rotonda intorno alle donne di scienza quindi grazie a Elena per averci pensato ci mancherebbe diciamo che doveva essere anche in un'altra giornata ma siamo arrivati ad oggi ma non conta nulla l'importante è che fossimo in tanti poi più di 440 mi pare è stato un po' il tetto raggiunto quindi credo che sia un motivo di grande soddisfazione aver potuto interloquire con tante persone grazie a voi grazie a tutti arrivederci a presto buona giornata buona giornata grazie a tutti arrivederci grazie mille grazie a tutti buona giornata a tutti